professore invernizi vuole introdurre lei sì ecco buongiorno buongiorno benvenuti tutti io sono collegato da il san mary hospital di lachor in uganda quindi una coincidenza incredibile nel senso che stiamo facendo una visita in delegazione con una delegazione di dell'università bicocca qui a gulu nel nord dell'uganda dove c'è un ospedale eccezionale e tre giorni che lo stiamo visitando e ha una storia importante nella sanità di questo paese e nella nelle attività di cooperazione di global health e che riguardano questo incontro l'incontro oggi è il primo di una serie che abbiamo voluto organizzare in bicocca e che riguarda attività di global health che dei giovani degli studenti di medicina ma anche di altri corsi di infermieristica di odontodiatria andranno a fare in alcune sedi di paesi a basso si dice low medium income countries paesi poveri l'idea è di strutturare istituzionalizzare queste attività e quindi oltre a raccogliere quindi le gli interessi di alcuni gli interessi l'interesse a fare queste esperienze da parte di alcuni studenti noi abbiamo pensato di organizzare questi mini corsi che partono oggi il primo parte oggi pensiamo di averne due all'anno che ci permettono e daranno una introduzione al tema al grandissimo tema della global health con un primo speaker in molto molto esperto di questo ambito che ringrazio che mario raviglione poi avremo delle pillole di da parte di ginecologi ostetrici avremo un intervento anche da parte di o dominic corti della fondazione corti che quella che qui ci sta ospitando ecco che gestisce questo ospedale nel nord lugano qualcuno della fondazione e insomma un una un percorso avremo spreparava della medical education e del counseling dell'attività di counseling che stiamo organizzando proprio per questi studenti in modo che ci sia una un'introduzione un'informazione o un invio organizzato sta abbiamo perso il collegamento si fermi un attimo sentite sì ma noi non sentiamo più in vernizi però questo inizio penso ci sia un problema con il suo audio non riusciamo più a sentirla non ci sente neanche lui si può scrivergli un messaggino forse allora che lo scrivo no da qui chat qua se va qui può scrivere un messaggio io ho scritto anche sul cellulare ma penso che non abbiamo visto è un segnale sentite anche l'interno andiamo così è stavano avanti mi spiace questa finestra come si toglie però ok ok eh sì se me non guarda io ho mandato anche non ti sentiamo non si legge si riesce a leggere sì è il bello della diretta ok si pensa sia un problema di connessione che ora si sta un attimo bloccando anche il video sentite adesso sì adesso sì stavo dicendo che oltre in quel periodo di due mesi che fanno in certe situazioni avranno l'occasione di vedere come si può si deve sia professionalmente come esperienza ma anche come personalmente come persona perché professionisti della salute medici infermieri ostetrici ecco non non più che forse rispetto ad altre professioni serve essere anche delle persone solide e quindi come accademia noi pensiamo con questi offrirvi questa possibilità di stare in certe situazioni ehm di aiutare di aiutarvi anche a formarvi come persone quindi sono molto contento per questo primo incontro che inizierà una sese come ho detto ehm mi fermo perché potrei parlare ancora mezz'ora perché questo è tantissimo secondo me e noi e quindi lascio la parola a chi lì gestisce il l'incontro non potrò rimanere collegato tutto il tempo eh forse il primo è Mario Raviglione ecco non so se Luca Pavesi o la Chica Gilardi stanno eh hanno altro da dire sì io introdurrei il professor Raviglione eh vuole dire qualcosa professoressa eh grazie no io voglio solo dare fare l'augurio più affettuoso a tutti i nostri studentessi e studenti tante studentesse studenti hanno già fatto la vostra esperienza e sono sempre ritornati con con un bagaglio professionale verso la professione umano molto forte quindi è molto bello che questo progetto coinvolga adesso anche gli studenti di odontoiatria quindi si apra la Global Oral Health quindi è molto è molto importante e penso che questa iniziativa che appunto è la prima sia veramente molto importante per valorizzare anche la vostra esperienza all'interno del del percorso formativo del percorso universitario quindi davvero un augurio affettuoso e noi siamo qua Treppanava io sono il presidente del corso di laurea in in inglese eh ma sono anche il referente del counseling del di medicina e e di Ateneo ehm allora per perché ehm essere essere qui eh essere presente anche come passaggio formativo domani domani parleremo molto insieme di tutta una serie di aspetti di resilienza di come affrontare al meglio un'esperienza che è importantissima e centrale nella costruzione della propria identità professionale del proprio essere clinici da qualsiasi punto di vista medici che ehm eccetera ma che è molto complessa e per la quale e che può essere affrontata eh avendo un po' in mente quali sono le risorse che si possono mettere individualmente in campo per gestire l'impatto di un'esperienza densissima però ne parliamo meglio domani per cui buon ascolto oggi grazie professoressa ecco io sono l'ultimo per importanza e mi mi limito solo a dire che eh quello che state per fare io l'ho fatto nel novantasette quando ero ancora studente di odontoiatria in statale peraltro e da lì eh ogni anno ho sempre fatto un'esperienza di volontariato medico che poi è diventato qualcosa che possiamo definire salute orale globale io sono odontoiatra qui con me c'è Leandro Baldi eh laureato in igiene dentale che ha fatto un un percorso accademico sulla salute orale globale molto intenso e mi è stato chiesto dal professor Invernizi di iniziare questa prima lezione e ho avuto l'onore di poter coinvolgere il professor Raviglione che ha peraltro adesso leggerò il suo curriculum che è vastissimo iniziamo dall'ultima cosa che ha fatto ha creato insieme al professor Gori un master di salute globale in statale a Milano e insomma mi pregio con Leandro di far parte degli speaker sulla parte della salute orale globale e credo che una lezione più autorevole non possiamo avere su questo ambito e dico altre due parole sul professor Raviglione allora dal fino al 2017 ha lavorato per la WHO ed è stato direttore del programma globale per la tubercolosi ha diretto lo sviluppo delle più recenti strategie globali sulla tubercolosi ha diretto importanti conferenze ministeriali sempre in OMS quali l'Assemblea Mondiale della Salute il Comitato Esecutivo dell'OMS i Comitati Regionali dell'OMS attualmente è il presidente dei Comitati Tecnici e Strategici sulla tubercolosi negli uffici regionali dell'OMS nella zona Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico membro fondatore dell'European Global Health Research Institute Network si è formato in medicina interna e malattie infettive al Cabrini Medical Center di New York e poi malattie infettive HIV Albert Israeli Hospital insomma vabbè ha un numero infinito di pubblicazioni su tubercolosi HIV malattie infettive è il più citato tra i dieci autori più citati al mondo in materia di tubercolosi insomma ha ricevuto un sacco di premi internazionali andrei avanti ancora per una pagina mi fermo qua professore non me ne voglia lascia lascia stare lascia stare basta basta e quindi lascio a te la parola grazie Mario dell'intervento si grazie 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 a te per l'invito e grazie a Pietro Invernizzi per questo invito e visto che hai citato la EGRIN la European Global Health Research Institute Network proprio ieri c'è stato il comitato di gestione o citavo appunto citavo la Bicocca che ha creato questo centro di salute globale dicendo dobbiamo invitarli a entrare in questa rete europea rete europea che è stata creata legalizzata un paio di anni fa che comprende come i tre soci diciamo così i tre membri fondatori siamo noi a Milano ma soprattutto quelli di Amsterdam Università di Amsterdam e quella di Barcellona IS Global l'istituto di salute globale di Barcellona siamo i tre membri fondatori adesso annovera circa 20-25 dalle 20-25 università europee con centri e istituti e insomma attività in salute globale per cui sarebbe bene casomai ne parliamo poi con Pietro Invernizio a suo tempo sarebbe bene che anche voi faceste domanda di entrare in questa rete europea che insomma che apre gli orizzonti di collaborazione eccetera eccetera grazie ancora dicevo appunto per l'invito e visto che si parlava di storia e si parlava qui di giovani studenti che se ne vanno giù in Africa ebbene la mia carriera stessa è stata completamente cambiata da un viaggio in Eswatini allora si chiamava Swaziland quando stavo in America a fare le specialità a quel tempo di medicina interna e poi parti di malattie infettive terminate poi a Boston essendo appunto all'ospedale Cabrini Medical Center di New York che era gestito dalle suore cabriniane mi è stato chiesto di andare a fare un giro in Africa in Eswatini dove loro avevano due missioni dedicate alla salute e da io stavo per finire la medicina interna il mese dopo avrei iniziato anzi quando sono partito qualche mese prima avrei poi iniziato in sostanza a luglio di quell'anno cardiologia ero già arruolato nella specialità di cardiologia ma sono rientrato da Eswatini ho cambiato totalmente idea mi sono fatto un altro anno di medicina interna come Cifresident e l'anno successivo sono entrato in malattie infettive che è stata poi proprio la mia diciamo così conversione alla salute globale poi da lì tutto il resto della mia carriera è improntato proprio su sulla internazionalità sul principalmente nell'area delle malattie infettive in particolare della tubercolosi HIV e via dicendo quindi i viaggi in Africa possono a volte dare origine a questo tipo di chiamiamole conversioni alla salute globale perché uno si rende conto che facendo il clinico come stavo facendo io per qualche anno di specialità e via dicendo negli Stati Uniti in particolare poi uno si rende conto che la salute globale è un qualcosa di un qualcosa di diverso per cui penso che qualcuno di voi quando rientrerà avrà dei ripensamenti sulla propria carriera il che fa bene perché c'è molta necessità appunto di persone qualificate in questo campo chiamiamolo così della salute globale per cui se va bene Luca io inizierei a questo punto la mia lunga relazione va bene posso iniziare vedete tutto lo schermo è a posto sì sì assolutamente si vede bene perfetto allora i grandi temi i grandi temi della salute globale che mi interessa discutere oggi sono questi definizione il global burden of disease i determinanti social ed economic non attendetevi una relazione di carattere clinico qui non parlo di clinica parlo di salute globale parlerò degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite l'OMS accenerò all'OMS e alla questione molto importante in salute globale che è quella del clima allora veniamo alla prima di queste tematiche che è proprio questa cioè la definizione di salute globale e la sua evoluzione inquadriamo la salute globale che cos'è la salute globale è un'area di lavoro io la chiamo una cross disciplina in realtà per lo studio la ricerca è la pratica che prioritizza il miglioramento della salute e il raggiungimento della equità nella salute per tutti al mondo la salute enfatizza cioè sottolina l'importanza dei naturalmente delle problematiche transnazionali dei determinanti delle soluzioni problematiche di transnazionali sono per farvi un esempio molto concreto il covid-19 le soluzioni sono chiaramente transnazionali il vaccino per tutti per intenderci coinvolge numerose discipline e settori che vanno oltre anche al settore delle scienze biomediche promuove quindi la collaborazione intersettoriale interdisciplinare ed è vista anche da alcuni e su questo non c'è stato molto sviluppo dal 2009 quando questa prima definizione venne formulata da alcuni dei pionieri in salute globale sulla rivista Lancet siamo nel 2009 veniva vista anche come una sorta di sintesi tra la prevenzione a livello di popolazione vale a dire la salute pubblica e la care individuale care che è termine intraducibile in italiano si può dire assistenza ma in realtà la care comprende diagnosi terapia assistenza al malato eccetera quindi viene vista in quel modo lì la salute globale successivamente nel 2016 viene formulata una ulteriore elaborazione questa vista nell'ambito accademico se vogliamo perché questo è l'articolo e che cosa ci dice questa nuova formulazione ripeto in sostanza quello che era già stato detto sette anni prima nel 2009 e io sento un eco fra l'altro quindi non vorrei che ci fosse qualcuno con il volume acceso perché sarebbe il caso se no io continuo a sentire un eco di quello che dico non so se anche a voi capita ok non lo sento più ok non lo sento più per cui dicevo in questa nuova chiamiamola così definizione viene messo l'accento perché siamo entrati nell'era degli obiettivi di sviluppo sostenibile quindi siamo nel 2016 l'accento su un approccio basato sul sistema quindi un approccio sistematico ecologico e ovviamente transdisciplinare con soluzioni sostenibili quindi vedete qua le parole che ho sottolineato in giallo qui si parla già di sostenibilità di ecologia chiamiamola così che alcuni poi hanno definito salute planetaria allora dove stanno le grandi sfide della salute globale quindi attenzione c'è uno scopo globale un aim globale e ancora una volta l'ho già detto è una diciamo che affronta delle tematiche di salute che riguardano più paesi e che sono quindi collegate a determinanti transnazionali vedi il clima vedi le pandemie se vogliamo quello che le ha determinate e le soluzioni transnazionali ad esempio un vaccino per tutti seconda cosa lo scopo quindi diciamo il fine ultimo del problema che non è solo di natura geografica quindi attenzione non confondiamo la salute globale con la salute chiamiamola così internazionale dell'era precedente di cui parlerò dopo qui parliamo di un fine ultimo che va oltre la geografia la internazionalità della salute in quanto le condizioni di alcune popolazioni sono tali anche a casa nostra anche a Milano prendiamo i migranti i rifugiati richiedenti asilo o se fossimo in Canada parliamo di Inuit o se fossimo negli Stati Uniti parliamo di First Nation come le chiamano native populations in sostanza di popolazioni che per motivi vari soffrono in maniera sproporzionata di problemi di salute quindi la salute globale è una globalità di interpretazione della salute che riguarda proprio anche quelle persone che hanno un accesso un accesso impedito anche a casa nostra la visione globale quindi si tendeva nell'immediato dopo guerra lo dirò dopo questo si tendeva a ragionare in termini di salute internazionale in termini di cooperazione internazionale con paesi più poveri e dove stava il focus di questa cooperazione stava sulla salute materna su quella infantile eventualmente sulle malattie infettive compresa e soprattutto la malaria ed altro che colpivano in modo sproporzionato appunto questi paesi più poveri qui ormai si parla di transizione epidemiologica cioè siamo la salute globale considera oltre a quelle patologie tipiche di 50 60 70 anni fa nei tropici diciamo così anche di quello che succede ora e cioè del fatto che le malattie non trasmissibili di cui la salute orale a cui si accennava prima le malattie non trasmissibili sono ora la principale causa di morte ovunque nel mondo tranne che nei paesi più poveri dell'Africa dove per pochi pochi punti percentuali le malattie infettive sono ancora la prima causa di morte ma le altre stanno arrivando e nell'arco di pochi anni le scavalcheranno e infine la globalità nelle discipline e nei settori l'ho già detto ampiamente cioè in sostanza la salute globale affronta i problemi di salute sotto una serie di prospettive di punti di vista totalmente diversi che non sono solo quello e questo è il punto cruciale biomedico come potrebbe credere uno che studia medicina questa tabella ve la lascio perché non andiamo nel dettaglio qua ve la lascio poi vedere nelle eventuali diapositive che avrete a disposizione la tabella originale del 2009 in cui si fa il distinguo tra salute globale che vedete qua salute internazionale quella dell'era precedente la salute globale nel dopoguerra sino al periodo della globalizzazione e della salute pubblica in parole povere e veloci la salute pubblica è concentrata sugli effetti della salute di popolazione domestici quindi sugli affari domestici ha un certo atteggiamento multidisciplinare pensiamo solo all'aspetto educazione non nelle scuole o promozione sanitaria la salute internazionale era precedente la dirò dopo comunque si focalizzava principalmente su approcci bilaterali alla faccenda quindi in sostanza l'Italia che si focalizza sulle precedenti colonie cioè l'Eritrea che è anche la stessa Etiopia in quanto a cooperazione gli inglesi o i britannici dovrei dire che si focalizzano sull'Africa orientale i francesi su quella occidentale e via dicendo c'erano rapporti di cooperazione bilaterale non c'era necessariamente una necessità di andare oltre il settore salute quindi era un modo di vedere la salute proprio in forma di cooperazione la salute globale invece è una cosa diversa penso già ho dato un'idea di che cosa si tratti cioè praticamente qui abbiamo un approccio alla salute che è veramente multidisciplinare multisettoriale e quindi siamo di fronte a un nuovo modo di concepire i problemi di salute alcuni degli aspetti che io che insegno di solito a Milano appunto su per far comprendere meglio il concetto di base qui direi che uno dei concetti fondamentali della salute globale è questo è quello della person center care neanche patient center care perché alcuni pazienti non amano essere chiamati pazienti parlate con quelli che sono affetti da infezione da HIV per intenderci quindi dite loro che sono dei pazienti vi diranno no non sono un paziente sono una persona che vive con l'HIV quindi voglio dire ci sono dei concetti oggi come oggi di person center care che significano quello che anche il New England Journal of Medicine ha pubblicato a suo tempo lo vedete nel grafico qua cioè in pratica riassumendolo i pazienti sono visti o le persone con una malattia sono viste come partners con gli operatori sanitari i medici gli infermieri e via dicendo i quali i quali devono a questo punto nella pratica della medicina a questo punto clinica moderna dobbiamo vedere gli aspetti vari della malattia non solo quelli biomedici ma anche quelli emotivi gli aspetti mentali spirituali sociali e finanziari quindi decisioni che vanno presi insieme quindi questo di solito non si insegna all'università ma è un concetto secondo me centrale nel modo di concepire la salute globale la salute nella sua globalità su questo passo ma comunque era solo per dirvi che nel 1978 ci fu una conferenza rimasta come una pietra miliare in salute pubblica e anche se vogliamo in quella che oggi chiamiamo salute globale che è la conferenza di Almata nell'ex Unione Sovietica con tutte le sue così i suoi aspetti anche politici che viene fuori con una dichiarazione fondamentale sulla primary care fino ad allora ci si focalizzava a costruire ospedali in poche parole e qua c'è un riconoscimento del fatto che senza gli approcci di salute primaria cioè quello che si può vedere in un ambito di periferia di una città oppure nelle zone rurali dove non esiste un ospedale vicino ebbene la cosa fondamentale era costruire un sistema di salute primaria ed è proprio il concetto della primary health care che ancora oggi direi è dominante nella salute del mondo sia in salute pubblica generale che in salute globale avere a disposizione diciamo così risorse umane accessibili infermieri medici e così via a tutti i livelli l'altro concetto che è collegato a quello della primary health care è quello della universal health coverage che è una rielaborazione più direi evoluta del precedente chiedo scusa concetto di primary health care 1978 quindi la copertura sanitaria universale è quello che abbiamo in Italia cui non ci si rende conto ma siamo uno dei paesi che è più avanzato in questo senso tant'è vero che piaccia o meno l'Italia è stata considerata a lungo come il paese con il più avanzato costo efficace servizio sanitario nazionale per intenderci adesso mi pare che siamo scavalcati dopo il covid siamo stati scavalcati da parecchi altri paesi siamo forse in posizione tipo nona o decima ma detto ciò la copertura sanitaria universale è proprio quella 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 policy quella normativa che consente a tutti di avere accesso alla salute senza discriminazione di alcun tipo e senza senza dover affrontare delle spese cosiddette catastrofiche non in termini sensazionalistici ma in termini economici che vengono definite come spendere il più più del 10% del proprio o reddito va bene per problemi di salute se uno spende annualmente più del 10% si parla di spesa catastrofica è un altro concetto importante in salute globale quello della copertura sanitaria universale il mezzo per arrivare alla salute per tutti siamo anche nell'era della precision public health voi conoscerete probabilmente la precision medicine che si applica che parte ormai da una ventina d'anni almeno in oncologia e che poi evolve in altri settori della medicina clinica medicina di precisione si parla anche di salute pubblica di precisione cioè la capacità di affrontare problematiche di salute in un modo diciamo così più preciso quindi non più una campagna vaccinale per dire che parla in generale a tutta la popolazione ma una campagna vaccinale che si focalizzi in particolare su quelli che non si fanno vaccinare o che non hanno accesso alla vaccinazione in modo più preciso per darvi un esempio pratico quindi si parla spesso adesso di proprio di precision pubblica con tanto di polemiche e dibattiti tra New England Journal of Medicine e l'ANSE due o tre anni fa in cui si disputavano su queste cose qua ed è stato anche formulato e qui ho fatto parte anch'io di questo gruppo molto numeroso di persone collegate all'Università di Ginevra che a un certo punto prende l'iniziativa di definire la precision global health anche qua allora si mettono insieme le scienze varie le scienze biologiche biomediche le scienze dei dati le scienze sociali per arrivare ad una precisione negli interventi che vengono fatti in modo sostenibile in un determinato paese in una determinata situazione con la possibilità continuamente di rivedere sia gli obiettivi sia quello che è il meccanismo che si è messo in piedi in modo da renderlo il più preciso possibile quindi non andiamo nei dettagli ma sappiate che esiste anche questo concetto così come esiste il concetto di salute planetaria che definito dalla commissione l'ANSE nel 2015 viene spiegato come la salute lo vedete lì nella parte gialla la salute planetaria è la salute della civiltà umana e la salute dello stato diciamo così dei sistemi naturali dai quali questa dipende quindi salute planetaria alcuni la considerano sopra la salute globale io ed altri la riteniamo un parte della salute globale la salute globale già parlava in termini ecologici quindi in termini salute del pianeta in salute animale salute di tutti in sostanza per arrivare poi al fine della salute umana e la salute planetaria non fa altro che diciamo così ripetere questo concetto su base ovviamente profondamente ecologica perché si studia la salute globale e che cosa ci guadagna a un certo punto a studiare la salute globale questo è quello che diciamo agli studenti del nostro master di salute globale a Milano e cioè vi dà un'idea di un nuovo modo in sostanza di pensare alla salute allineato con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile quindi un approccio multisettoriale vedete lì le parole chiave in blu integrato cross disciplinare che rispetti l'etica e i diritti umani in secondo luogo riconosce la necessità di collaborazione globale nella scienza e nella innovazione fornisce soluzioni anche per i problemi di sicurezza nazionale pensiamo alle pandemie si allinea con i movimenti dei diritti sui diritti umani vedendo chiaramente la salute come il principale dei diritti di ogni persona ed è una risposta anche a quella che è la ricerca della giustizia sociale che motiva molte persone ad occuparsi anche di salute è un'opportunità per attrarre fondi per la salute perché in generale oggi come oggi se non si inquadrano i progetti che si propongono ai donatori in un contesto globale allora si hanno meno possibilità di successo per lo meno nei grants più rispettati coinvolge chiaramente università istituti di ricerca perché c'è un sacco di ricerca da fare ed è anche se vogliamo metterle in termini mondani un'opportunità di business per chi per esempio si occupa che so io di farmaci antiretrovirali con la spinta da parte di molte agenzie una ventina di anni fa la spinta per introdurre gli antiretrovirali in Africa in quelle popolazioni che costituiscono per quanto riguarda i seropositivi il 75% dei seropositivi al mondo ebbene appunto questa spinta fa sì che ci sia anche il lavoro per l'industria che produce questi farmaci quindi esiste anche quell'aspetto chiamiamolo così mondano mi piace sempre citare il concetto di state of mind della ministra canadese Philpott che è stata ministra sia della salute che degli affari indigeni la quale mette la salute proprio in un contesto di giustizia sociale cita Martin Luther King e così via in questo articolo che invito tutti ad andarsi a leggere e parla proprio di uno state of mind cioè il fatto che la salute globale è un modo di pensare diverso appunto dal normale da quello che si apprende nelle scuole di medicina normali diciamo così è un modo di vedere la salute sotto una prospettiva molto più ampia e voglio concludere questa prima parte qui citando due diciamo così due elementi importanti della salute globale di oggi il primo è questo movimento contro diciamo così la colonizzazione che ancora esiste nel concetto spesso di medicina e di salute quindi c'è un movimento per la decolonizzazione della salute globale questo mi è stato fornito da Madhu Pai che è un collega che conosco da moltissimi anni il quale sta scrivendo giornalmente su queste cose ho visto oggi un articolo in cui parlano della blackness cioè del fatto di essere neri e della discriminazione che esiste e qua dice in questa diapositiva che mi ha passato pochi mesi fa quando gli ho chiesto qualcosa del genere dice che cosa vuole il global north le istituzioni del nord che cosa vogliono anche quelle accademiche vogliono parlano di e a loro piace che cosa la charity la filantropia l'aiuto le donazioni lo sviluppo l'assistenza allo sviluppo il saviorism il saperne troppo il saperla più lunga la dipendenza di altri da loro invece che cosa vuole il sud globale vuole vuole diciamo così la ricerca del diritto umano dell'equità della giustizia sociale c'è il concetto di riparazione per quello che è avvenuto in era coloniale chiedono l'autonomia chiedono il rispetto e la self determination questo è un modo di decolonizzare chiamiamola così la salute globale contro un'accusa che ci dice come il global north domini in salute globale sono istituzioni del nord quelle che creano i centri di salute globale perché quelle del sud non ne hanno né la capacità né le risorse spesso e volentieri quindi di qui la cooperazione vera che porterebbe al loro diciamo così progresso e poi c'è anche quest'articolo pubblicato da l'ANSET non più tardi di un anno cos'è meno di due anni fa di Emily chiedo scusa Besson che era la London School a quel tempo la quale proviene da un paese dell'Africa occidentale la quale parla proprio di questo concetto della whiteness cioè dell'essere bianchi e del fatto che l'essere bianchi fa sì che si ragioni sin dalla nascita dato data la nostra cultura si ragioni in termini di superiorità con questo chiamiamolo complesso di superiorità che si ha nei paesi invece rispetto ai paesi invece per esempio africani quindi c'è un movimento molto forte lo vedete qui confrontare affrontare la bianchitudine se vogliamo così definirla il fatto di essere bianchi e decolonizzare le istituzioni di salute globale quindi vedete come si tratti di un movimento estremamente come si può dire estremamente vivace e anche molto provocatorio detto questo passo all'evoluzione della salute globale ho già accennato in parte alla cosa ma questo è quello che avevamo scritto quattro anni fa in questo articolo in cui cercavamo di capire cosa sarebbe successo siamo nell'era pre covid poi l'ho aggiornato dopo quando dico post covid qua ma cos'era successo cos'è successo nell'ultimo diciamo secolo e mezzo ebbene nascono alla seconda metà dell'ottocento sia la scienza della salute pubblica che quella della medicina tropicale salute pubblica perché ci si rendeva conto che conveniva investire sulla salute delle popolazioni quindi fare la prevenzione in poche parole e a quei tempi già sorgevano i primi laboratori in grado di isolare i batteri già c'erano i registri per le malattie soprattutto nella Gran Bretagna nei paesi nordici Stati Uniti e al tempo stesso era l'era della colonizzazione e quindi la necessità di comprendere le malattie dei tropici da qui la nascita degli istituti o dei centri o comunque sia della disciplina di medicina tropicale clinica puramente clinica con la seconda guerra mondiale la fine dell'eurocolonialismo entriamo nella fase che può essere definita come international health a cui ho fatto riferimento prima si parla qui proprio anche di riparazione di aiuto ai paesi ex colonizzati quindi c'è un aspetto umanitario di sicuro ci sono aspetti economici dietro altrettanto importanti poiché si instaurano i meccanismi di cooperazione bilaterale con questi paesi con tutti gli interessi che sono legati a questi qua si prioritizza appunto l'aspetto chiamiamolo pure biomedico l'aspetto clinico si costruiscono ospedali si costruiscono cliniche eccetera eccetera con la fine della guerra fredda con l'abolizione di tutte le barriere che è il significato reale della globalizzazione con l'abolizione delle barriere franne che per paesi come la Corea del Nord che sono comunque sia un'eccezione oggi come oggi si entra nella fase appunto di globalizzazione di cui la necessità di rivedere il concetto di salute ci si rende conto che siamo tutti in un villaggio globale che quello che succede a Wuhan in Cina stamattina poi questa sera a Milano alla Malpensa questo è il concetto proprio che ha scatenato la necessità di reinventarsi il modo di concepire la salute generale del mondo di cui il concetto di salute globale che vi ho espresso precedentemente e poi qui noi ci basavamo molto sul fatto che c'è stata una grande recessione come sapete nel 2008 la quale ha causato un appiattimento di quelli che erano i finanziamenti in grande crescita nel primo decennio degli anni 2000 finanziamenti internazionali per aiutare i paesi più poveri quindi si appiattisce questa curva a livelli piuttosto alti diciamolo pure però si appiattisce e ci si chiedeva qua cosa succederà con tutte queste transizioni in corso transizioni economiche per cui paesi poveri covid permettendo stanno arricchendosi progressivamente in quanto perlomeno a PIL che non è espressione reale di ciò che succede in una società perché il PIL è il livello medio ma come sapete benissimo si formano dei gaps si formano degli iati non indifferenti tra il più ricco e il più povero nei paesi per esempio a medio livello di sviluppo come i BRICS come il Brasile come la stessa Cina eccetera quindi transizione economica transizione demografica popolazioni che invecchiano costantemente diventano sempre più anziane di cui tutta una serie di problematiche di salute e infine la transizione epidemiologica a cui ho già accennato precedentemente che riprendo dopo qui non sto a farvi la storia della salute pubblica non penso valga la pena a questo punto l'ho già accennata vi invito a leggervi con attenzione ciò che dice Winslow che è un po' il padre dei concetti moderni di salute pubblica già un secolo fa scrive delle cose che potrebbero essere riscritte oggi come oggi in quanto sono veramente alla base della salute pubblica nonché dei concetti di base anche proprio della salute globale e questa è in breve l'evoluzione cioè quindi nasce la salute pubblica l'ho già detto nasce diciamo nel dopoguerra il concetto di salute internazionale nasce soprattutto e questo è una pietra miliare nasce l'organizzazione mondiale della salute non della sanità come viene spesso detto in italiano sanità e sanitation questa è health che vuol dire salute nasce l'organizzazione mondiale della salute dopo la seconda guerra mondiale con una costituzione visionaria che vi presento dopo interviene poi e lo diremo anche dopo la banca mondiale che introduce altri concetti nel mondo della salute pubblica e globale e questa è la costituzione dell'OMS che vale la pena veramente di leggere per quanto riguarda i suoi primi 3-4 articoli perché pur essendo nel 1946 già ha una visione estremamente moderna del concetto di salute in un mondo globalizzato la salute dice è uno stato e già qui c'è la globalità della salute attenzione non in termini geografici ma la salute sotto tutte le prospettive è uno stato di completo benessere fisico mentale e sociale non solo l'assenza di malattia o infermità quindi come potrebbe concepire il clinico secondo il godimento del più alto livello di salute ottenibile uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano e qui attenzione l'equità senza distinzione alcuna di razza religione credo politico o condizione economica e sociale siamo nel 46 quando questa costituzione viene scritta e siamo alla fine del nazifascismo e in pieno stalinismo quindi con questi enormi tragedie dell'umanità del secolo scorso abbiamo per fortuna dei visionari soprattutto nel campo della medicina nel campo della salute come stampa che era uno jugoslavo il quale è stato quello che ha presieduto questa commissione che crea la costituzione e infine conclude con concetti molto moderni cioè la salute di tutti i popoli è fondamentale per la pace e la sicurezza e dipende dalla cooperazione di tutti il raggiungimento di uno stato di salute di promozione di protezione della salute in un paese è in pratica un valore per tutti quindi anche se siamo ben prima siamo nella fase di guerra fredda siamo ben prima di un mondo globalizzato ebbene c'è gente che ragiona così la banca mondiale diceva un ruolo fondamentale in salute globale nel bene e nel male nel 1993 pubblica per la prima volta un documento diciamo focalizzato sull'aspetto salute questo investing in health il loro rapporto annuale che è ovviamente diretto a chi si occupa di finanze quindi ai ministri dell'economia delle finanze e via dicendo nei quali rivedono un pochettino cosa sta succedendo e giungono a delle conclusioni di grande importanza pratica uno è che le spese sulla salute devono essere evidence based quindi introducono un concetto molto importante qua ci deve essere l'evidenza dietro non è solo una una preferenza passionale e sono un investimento non solo in salute ma nello sviluppo generale di una popolazione è la prima volta in fondo che delle persone che si occupano di finanze dicono queste cose la salute viene vista come un investimento e secondariamente la cosa importante e pratica è questa cioè i fondi che vanno aggiunti per raggiungere la salute in una popolazione devono essere investiti in interventi costo efficaci che affrontino quelle che sono le priorità in salute introducono in altre parole il concetto del cosiddetto global burden of disease di cui parlerò dopo e il concetto degli interventi costo efficaci per fare questo introducono anche il concetto di DELI che chiunque si occupa di salute globale deve conoscere cioè i disability adjusted life years ovvero gli anni di vita sana che sono persi a causa di un problema di salute per concepirlo il DELI il DELI non guarda solo alla mortalità diciamo così precoce causata da una malattia questa parte qua di questa storia chiamiamola naturale di un individuo cioè uno muore a 70 anziché 80 anni in Italia ha perso 10 anni di vita e di vita sana però di vita in sostanza questa era la mortalità vecchio concetto introduce il concetto in cui dentro agli anni di vita persi contano anche quelli legati alla disabilità per esempio questo è un ragazzino che si frattura che so io il femore e sta fermo sei mesi questi sei mesi contano e la frattura di femore è una delle condizioni che possono causare questa cosa poi se la persona prosegue nella sua vita a un certo punto avrà che so io l'infarto avrà quello che volete avrà l'Alzheimer e vive gli ultimi 4-5 anni di vita in condizioni di totale disabilità tutto questo conta quindi c'è l'aspetto di morbidità insieme a quello di mortalità entrambi messi insieme nel deli quindi gli anni di vita sana persi che si possono quindi a questo punto stimare per non solo gli individui ma per un'intera popolazione ok malattia per malattia quanto viene tolto di anni di vita sana ad una certa popolazione con una certa aspettativa di vita a causa di una certa condizione e qui elaborano questo questo grafico che per la prima volta compare in questa forma cioè di di veramente di costo efficace degli interventi cioè vanno a calcolare il costo per deli guadagnato per deli guadagnato perché sono anni di vita sana sulla base dei costi per un intervento per esempio la tubercolosi costa 120 dollari o quello che è e qui avete il supplemento di vitamina A che costa qualche centesimo e viene messo in una scala in cui si va a vedere qual è il guadagno in termini di deli e poi queste barre chiamiamole così diagonali ci dicono sostanzialmente quali sono gli interventi più costo efficaci per esempio il supplemento di vitamina A che previene la perdita di vista soprattutto quando appunto non esistono le condizioni per avere una quantità di vitamina A sufficiente nel cibo ebbene questo costa pochissimo e ci fa guadagnare qualcosa come un deli per un dollaro speso diciamo così che sui grandi numeri diventa una questione di costa efficacia lo stesso per la tubercolosi estremamente costa efficacia guadagniamo qualcosa come 100 delis spendendone diciamo pure 100-120 dollari però l'investimento è tale che ci fa guadagnare un sacco di giorni di vita sana non così è per esempio perché so la leucemia la quale essendo malattia relativamente rara è molto costosa va bene è considerabile come un intervento da un punto di vista finanziario non costo efficace ovviamente qui entra in gioco tutto l'aspetto etico della faccenda quindi un governo che deve pianificare deve tener conto che esistono anche quelli che hanno la leucemia e che di conseguenza occorre investire anche su quelli però ci dice in sostanza se dobbiamo investire abbiamo solo 10 euro in tasca sarà meglio investirli in quegli interventi più costeficaci cioè che raggiungono più persone di una popolazione colpita da una certa malattia in maniera appunto economica questo è un concetto puramente finanziario e poi nasce l'era effettiva vera e propria della salute globale legata al fenomeno della globalizzazione al fatto che la banca mondiale incomincia a parlare di global burden of disease cui dirò tra poco che cosa veramente significhi questa cosa ci si rende conto che siamo in un villaggio globale ci si rende conto che ci sono le epidemie che fanno paura nascono delle riviste come emerging infectious diseases siamo nella seconda metà degli anni 90 proprio per questo tra l'altro prodotto dai CDC americani proprio per richiamare l'attenzione sul fatto che siamo sottoposti a rischi e passo direttamente prima magari poi di interrompere per qualche domanda se ce ne sono direttamente a qual è il futuro della salute globale cosa ci possiamo attendere beh ci sono state delle tappe notevoli dei processi positivi notevoli negli ultimi decenni primo l'advocacy ovvero è intraducibile in italiano il termine advocacy in realtà la promozione chiamiamola così legata principalmente alla epidemia di AIDS che ha fatto sì che ci sia un'attenzione che non esisteva in precedenza sui problemi della salute e delle minoranze e della vulnerabilità delle persone o di certi gruppi di persone il che ha portato a un afflusso di soldi notevolissimo in salute con tanto di esplosione nel senso positivo del termine delle organizzazioni non governative con tanto di incorporazione del problema salute negli otto obiettivi di sviluppo del millennio che erano quelli dal 2000 al 2015 adesso siamo nell'era degli obiettivi di sviluppo sostenibile qua si parlava di MDG e ce ne erano ben tre dedicati alla salute salute infantile materna e le epidemie HIV malaria e tubercolosi c'è stato un progressivo aumento notevole degli aiuti internazionali la filantropia pensata alla fondazione Gates è stata veramente ha raggiunto dei livelli mai visti sino ad oggi sono state create delle partnership per influenzare anche le policies il progresso in quanto a capacità di misurare i risultati degli investimenti è stato notevolissimo quindi cose molto positive il futuro dipenderà da tutta una serie di fattori che possiamo riassumere in questo modo cioè da cosa succederà per la popolazione in generale il suo invecchiamento la transizione demografica il fenomeno della urbanizzazione le tendenze per quanto riguarda l'estrema povertà Banca Mondiale la definisce al limite alla soglia di 1.90 dollari al giorno pro capite quindi quelli che sono sotto a questo income giornaliero questo reddito giornaliero sono definiti in estrema povertà le tendenze del PIL e poi appunto quanto si continuerà a investire in quanto ad esempio assistenza allo sviluppo popolazione mondiale è destinata a continuare a crescere in queste proiezioni vedete come la cosa sicuramente procederà ancora per qualche decennio per poi magari magari tendere ad appiattirsi soprattutto per fine secolo soprattutto in sostanza perché il continente asiatico tenderà ad appiattirsi se non a ridursi non così l'Africa secondariamente malgrado lo vedete anche bene qua tra l'altro in quest'altro grafico in cui l'Africa continuerà a espandersi in quanto popolazione l'Asia invece tenderà a ridursi ma diciamo l'altro aspetto della faccenda è che la popolazione anziana continuerà ad aumentare se oggi come oggi ci sono circa un miliardo di persone sopra i 60 anni queste raddoppieranno come vedete qua per metà secolo triplicheranno a fine secolo tutto ciò ha delle influenze sulla salute altro fenomeno transizione demografica ovviamente collegato ai precedenti e quindi la famosa piramide della della popolazione che ci dice come si sia passati nei vari paesi i cosiddetti sviluppati o comunque quelli ricchi da una fase due secoli fa un secolo fa di situazione paragonabile a quella africana di alcuni paesi più poveri al mondo di oggi una fase in cui le persone sotto i 15 anni sono la stragrande maggioranza per poi ridursi progressivamente mano a mano che si avanza con l'età lo stadio 4 vedete qua quando poi sia la natalità che la mortalità si riducono siamo in questa fase qui allora abbiamo in pratica un aspetto cilindrico della curva della curva della piramide come si chiamava in precedenza della popolazione un cilindro in cui tutti i vari tutte le varie età sono in quanto a percentuale più o meno simili quindi questa è la transizione demografica il che sta avvenendo ovunque in sostanza per cui sempre più persone anziane sempre più popolazioni anziane altro fenomeno importante che influenzerà sicuramente la salute delle popolazioni è questa cioè la urbanizzazione i paesi ricchi cosiddetti ad alto reddito sono questi in cui la popolazione urbana supera e da ormai mezzo secolo e più supera quella rurale e rimane più o meno come vedete qui abbastanza stabile in quanto a proporzioni mentre non così era per i paesi più poveri o i paesi comunque vedete qua less developed meno sviluppati in cui termini che non mi piace ma comunque lo uso paesi meno sviluppati che proprio in questi anni stanno vivendo una situazione in cui la popolazione urbana sta aumentando e ha superato ormai percentualmente quella rurale tutto ciò porta alle implicazioni in salute che vedete qua quindi aumento di certe condizioni al tempo stesso ovviamente chi vive in città ha più accesso a scuola educazione ha più accesso a ospedali cose di questo tipo però al tempo stesso è esposto a una serie di rischi che sono elencati lì e cosa succederà ancora succederà che i paesi secondo la banca mondiale perlomeno che i paesi più poveri questi sono in pratica le percentuali di paesi poveri lo vedete qua dal 2000 a oggi più o meno si sono ridotti così come sono aumentati quelli più ricchi quei paesi ad alto reddito o quelli a reddito per esempio questi medio alto vedete qua che erano una proporzione molto limitata circa che so io il 20% ora sono di più sono in circa il 30% che significa questo perché è importante perché più i paesi aumentano il loro pil più aumenta la spesa sanitaria totale è chiamata la prima legge dell'economia sanitaria questa nasce come concetto da tempo nasce una ventina d'anni fa con questo grafico questi sono i paesi al mondo e vedete qui a seconda del variare del pil aumenta la spesa totale sanitaria questo che cosa vuol dire che se noi ci arricchiamo in un certo paese ci spenderemo sempre di più per la salute gli americani per esempio sono famosi per questo hanno una una spesa sanitaria pro capite enorme rispetto ad altri paesi ma attenzione quello che conta qui è che poi queste spese sanitarie siano in parte coperte da meccanismi come per esempio appunto quello della copertura sanitaria universale che abbiamo in Italia in cui c'è un fenomeno un meccanismo anzi di tassazione che ridistribuisce questi queste risorse per far sì che tutti abbiano accesso questa è la copertura sanitaria se noi non l'abbiamo questa copertura ci troviamo di fronte a un paese che si sta arricchendo come è avvenuto in paesi per esempio a reddito medio si arricchiscono diciamo così rapidamente ma arricchendosi rapidamente aumenta la spesa sanitaria totale ma se non c'è una copertura sanitaria la spesa totale è fatta dalle spese di tasca propria quindi se uno vuole poi avere accesso che so io alla risonanza magnetica che non c'era 30 anni fa o 20 anni fa o 10 anni fa in un certo paese povero deve pagarselo e questo non va bene perché questo non fa altro che impoverire la popolazione questo ovviamente avrà delle conseguenze ho citato i grossi investimenti in salute globale internazionale del passato e li vedete qua qui vedete molto bene questo è un articolo di Lancet di 2-3 anni fa 3 anni fa che ci dice come sono stati spesi quanti sono stati e come sono stati spesi i fondi internazionali e vedete come per esempio qui abbiamo le malattie infettive in arancione abbiamo l'HIV AIDS che stradomina in quanto a spese così come la salute lo vedete qua materno-infantile tipicamente ben finanziate come sono aumentati drasticamente questi sono miliardi quindi se nel 90 si investivano internazionalmente in aiuti 8 miliardi oggi nel 2019-2020 se ne investono 40 di miliardi quindi una spesa molto 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 grande e qui vedete la differenza tra il primo quindicennio del secolo e gli ultimi 5 anni in arancione vedete che gli investimenti si sono ridotti in praticamente tutte le varie condizioni con appunto investimenti positivi solo nel caso di beh sono investimenti positivi in tutte però una riduzione drastica di alcuni settori per esempio questo della salute neonatale si è ridotto rispetto a quello che è stato nel primo quindicennio e c'è stato soprattutto quello a cui facevo riferimento prima un appiattimento degli investimenti che può darsi siano in buona parte collegati al fenomeno della di quella crisi finanziaria del 2008 che ha fatto sì che gli aiuti internazionali si siano ridotti questo è un po' riassunto di tutto salute cosa ci aspettiamo dalla salute globale nel diato futuro ebbene dipenderà da molti fattori dall'aspettativa di vita che probabilmente continuerà ad aumentare dalla urbanizzazione dal pil che aumenterà dalle transizioni economiche varie non sappiamo cosa succederà per l'aiuto alla cooperazione in sostanza ma al tempo stesso i fattori diciamo così che ci rassicurano sono che anzitutto c'è una forte richiesta a livello mondiale di copertura sanitaria universale è un credo politico ormai a livello di leaders a livello di nazioni unite di protezione sociale oltre che di copertura sanitaria delle spese mediche ci sono continui progressi tecnologici la salute è ormai riconosciuta come una priorità dai leader a livello mondiale nell'assemblea questa è l'assemblea generale ONU nell'ambito del framework cioè del quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile e poi c'è da chiedersi cosa succederà nel nuovo normale nella nuova normalità post covid che se ben sfruttata potrebbe promuovere facilitare investimenti quindi questo chiude la prima parte di inquadramento della salute globale adesso potrei andare avanti ancora per un bel po' su tutti questi altri argomenti ma se avete delle domande a questo punto vi chiedo appunto di insomma chiedo se avete dei chiarimenti o delle cose che non avete compreso bene è un po' questo primo quadro l'impostazione del concetto di salute globale poi parliamo di cose più tecniche nei precedenti nei seguenti anzi nelle seguenti sezioni della della presentazione e non sento eccoci qua qualche domanda da porre al professor Raviglione nulla possiamo procedere Mario procedo quanto quanti quanti minuti mi dai ancora ma io direi una mezz'oretta se riesci a toccare tutti questi temi in mezz'ora al limite puoi saltare l'ultima parte che comunque quella sul futuro della WHO sì quella lì è più che altro il inquadramento di che cos'è l'OMS quindi è molto breve tra l'altro comunque no niente allora tocco passerò su questa parte qua del global burden velocemente qui si entra un po' di più negli aspetti biomedici della faccenda il global burden l'ho citato il global burden of disease è una cosa che tutti devono sapere ci si attende quest'anno tra l'altro su Lancet la pubblicazione delle ultime stime le penultime sono quelle del 2019 dopodiché sono state ritardate e posticipate a causa del covid ma è un esercizio chiamiamolo così un progetto il global burden of disease che nasce con la banca mondiale l'ho detto vent'anni fa e introducono il concetto del deli i deli persi come ho detto la mortalità e via dicendo ripetuto poi progressivamente negli anni ripeto l'ultimo è del 2019 fatto attualmente svolto attualmente da questo istituto qua for health metrics and evaluation all'università di Washington a Seattle negli Stati Uniti in collaborazione con agenzie come l'OMS lo scopo è quello di valutare di stimare quello che è il fardello mondiale di malattia se lo vogliamo tradurre in italiano il global burden of disease e dirci sostanzialmente paese per paese regione del mondo diciamo continente per continente globalmente le malattie più importanti usa indicatori l'ho già ripetuto e tradetto come il deli e la mortalità principalmente ci sono altri importanti indicatori di salute che vanno tenuti presenti e che sono sostanzialmente quelli che si usano quando si valuta il livello di il livello di sviluppo di un paese per esempio la mortalità infantile sotto i 5 anni lo vedete qua quindi la probabilità di un di un bambino sotto i 5 anni di morire espresso per il numero di mille nati vivi 5 anni prima ovviamente così come la mortalità infantile del primo anno di vita quella neonatale dei primi 28 giorni la mortalità materna l'aspettativa di vita sono tutti indicatori fondamentali di sviluppo di una popolazione ma nel global burden of disease si tende a utilizzare principalmente i delis e come dicevo prima la mortalità l'evoluzione dell'aspettativa di vita la conoscete tutti è stata questa immagino che la sappiate tutti insomma siamo in continuo aumento a livello globale lo vedete world è questa curva qua in rosso che è tenuta più bassa rispetto a tutte le altre aree del mondo per via dell'Africa che rimane con una aspettativa di vita molto bassa vedete la differenza enorme tra il paese più povero al mondo la repubblica centrafricana e uno dei paesi più ricchi al mondo cioè il Giappone una differenza enorme ma notate pure anche qua se lo vedete bene qui una fase di stallo e addirittura di riduzione dell'aspettativa di vita in questo periodo e vi chiedo di dirmi che cosa l'ha causato d'accordo e poi una ripresa decisamente accelerata rispetto addirittura agli altri continenti quindi questa fase di ascesa adesso è molto importante in Africa c'è qualcuno che mi sa dire perché c'è stato questo stallo dell'aspettativa di vita a un certo momento addirittura la riduzione in alcuni paesi è scesa a 35 per esempio l'Esvati in Swaziland negli anni nella seconda metà degli anni 80 fino agli anni 90 cosa era successo c'è qualcuno come lo sa dire una studentessa di nome Sofia risponde per l'HIV certamente proprio quello e di fatti la ripresa è grazie al fatto che si sono introdotti gli antiretrovirali a partire dai primi anni 2000 e quindi questo ha fatto sì che ci sia oltre al miglioramento delle condizioni generali economiche dei vari paesi ci sia proprio stata una possibilità di ripresa di questo tipo e questa è va bene questa è la mappa al mondo dell'aspettativa di vita vedete l'Africa chiaramente che è quella con i livelli più bassi l'Europa occidentale e il Nord America attenzione gli Stati Uniti non sono tra quelli con i livelli più alti proprio perché hanno sacche di povertà non indifferenti e queste sono le stime relative al 2016 in realtà perché non avevo questa stessa immagine per il 19 ma non sono cambiate granché per quanto riguarda proprio le stime dei morti se ci sono all'anno una stima intorno ai 55 56 milioni di persone che perdono la vita ebbene il 9% lo perdono più o meno al 9% lo perdono per i traumi morti traumatiche le malattie infettive tradizionale causa principale di morte anche in Italia un secolo fa sono ridotte oggi come causa di morte al 20% tra cui malattie infettive tradizionali diciamo così vale a dire tubercolosi HIV e malaria con le varie proporzioni qui adesso la tubercolosi è decisamente superiore all'HIV perché grazie agli antiretrovirali si muore molto di meno tubercolosi uccide qualcosa come due volte e mezzo l'HIV oggi come oggi ma comunque sia queste sono le infezioni respiratorie acute cioè le polmoniti bambini e anziani queste sono le cause neonatali di morte quindi vedete che quelle della precedente era di salute internazionale oggi sono ridotte al 20% il rimanente 70% sono tutte queste 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 fette della torta in blu o azzurri e cioè che cosa le cardiovascolari un terzo delle morti al mondo in pratica il cancro le malattie respiratorie croniche e poi tutto il resto quindi questo è quello che avviene a livello mondiale lo vediamo bene anche qui 9-10% abbiamo detto circa morti traumatiche quindi qua si parla di incidenti stradali suicidi omicidi e via dicendo 70% in blu sono le non trasmissibili e infine il 20% in arancione sono le vecchie principali cause di morte cioè malattie infettive e mortalità infantile e materna e vedete qui la transizione epidemiologica questi sono i paesi a più basso reddito in sostanza l'Africa molti paesi dell'Africa più la Corea del Nord e Haiti questi sono i paesi a medio reddito suddivisi in lower middle e upper middle qua stanno i tre quarti della popolazione umana qui c'è per esempio l'India di qua stanno gli altri BRICS Brasile Russia Cina Sudafrica Messico e così via questi sono i paesi a medio reddito e questi sono i paesi come l'Italia ad alto reddito quindi Nord America Europa Occidentale Giappone Australia Nuova Zelanda in pratica Singapore fa parte di questo gruppo qua e vedete la cosiddetta transizione epidemiologica cioè il passaggio progressivo con l'aumentare del PIL d'accordo vedete qua i livelli le soglie dei PIL a cui faccio riferimento quindi il passaggio progressivo a seconda del livello del PIL da una causa di morte principale infettiva a una causa di morte principale non trasmissibile quindi i paesi come l'Italia in pratica siamo ai livelli ormai o meglio dovrei dirlo al contrario i paesi upper middle quindi ripeto paesi come il Brasile la Russia la Cina eccetera hanno una suddivisione delle cause di morte che è ormai sostanzialmente identica se non fosse per gli incidenti stradali che sono di più a quella dei paesi più ricchi e questa è l'evoluzione quindi molti paesi africani oggi come oggi stanno evolvendo in questa direzione quindi avranno se qui sono il 50% più o meno delle cause di morte 40% circa quelle non trasmissibili tra pochi anni avremo il superamento quindi è una transizione cosiddetta epidemiologica e qui avete le statistiche più in dettaglio questa è globale vi faccio vedere quella relativa ai quattro livelli economici a cui facevo riferimento e vedete qui come se qui predominano o comunque ci sono parecchi verdi il verde corrisponde alle cause infettive neonatali questi verdi questi quadratini verdi quelli completi sono l'ultima statistica quelli quelli vuoti sono relativi all'anno 2000 vedete quindi anche la differenza una riduzione per quelle parti verdi c'è una riduzione vedete invece le parti blu che sono in aumento le non trasmissibili e se andiamo a vedere cosa succede qua in pratica il verde c'è più solo in posizione 6 con le polmoniti tutto il resto sono in azzurro cioè tutte cause non trasmissibili notate l'Alzheimer come è aumentata tra l'altro dal 2000 al 2020 quindi vedremo le nuove statistiche sarà probabilmente ancora di più sarà da queste parti qua quindi in pratica le demenze diventano una delle cause principali di morte e sono tra l'altro anche in posizione 8 ormai nei paesi a medio reddito qui stanno il 35 cosa ho detto prima 35-40% della popolazione al mondo quindi vedete benissimo come si può ragionare in termini di salute globale questa parte qui la salto vado molto veloce perché non abbiamo tempo ve la lascerò nelle diapositive chi è interessato a concepire meglio tutte queste cose può vedersi nel rapporto delle Nazioni Unite annuale la situazione nei vari settori dello sviluppo che corrispondono agli SDG agli obiettivi di sviluppo sostenibili e quello che dicono nell'ultimo rapporto di pochi mesi fa relativo al 2022 il mondo sta affrontando la confluenza di crisi che minacciano la sopravvivenza stessa dell'umanità tutte queste crisi e il modo di prevenirle e di navigare attraverso di loro in sostanza se posso tradurlo così sono affrontati in maniera olistica negli SDG se le ignoriamo lo facciamo al nostro stesso pericolo e rischio e siccome ho parlato degli obiettivi di sviluppo sostenibile questi sono i famosi 17 obiettivi la salute è uno e il tre gli altri sono la lotta alla povertà la lotta alla fame l'educazione l'uguaglianza di genere via dicendo l'energia pulita la parte ecologica la vedete qui il clima l'ecologia o meglio la salute delle acque degli oceani la salute della terra la pace e così via questi sono gli obiettivi di sviluppo del millennio ciascuno di questi è trattato in questo rapporto in maniera infografica molto utile questo è quello dell'SDG numero 3 in due paginette vi danno un riassunto qui ovviamente il tutto è stato poi focalizzato sulla questione covid che ha alterato veramente ha interrotto i servizi sanitari per cui molte malattie oggi come oggi soffrono di questa faccenda la tubercolosi ha visto per la prima volta in 20-30 anni un aumento dei morti e dell'incidenza lo stesso avviene per la malaria lo stesso avviene per la mortalità infantile e via dicendo lo stesso avviene per la mortalità da vaccini vedete qua ad esempio come 22 dicono milioni di bambini non sono stati vaccinati proprio a causa dell'interruzione del sistema e qui è una carrellata che non posso fare perché non ho tempo quindi passo velocissimamente su quelle che sono le principali cause di mortalità di deli persi a livello mondiale salute materno infantile covid alterazione lo vedete qui e quindi quella che è stata una regressione della mortalità infantile in sostanza si interrompe a causa del covid questi sono dati ancora più specifici la questione dei vaccini ve l'ho citata la mortalità materna molti non lo sanno ma 300.000 donne perdono la vita ogni anno a causa di gravidanze e parto chiara espressione forse una delle migliori espressioni della retratezza dei sistemi sanitari in molti paesi come vedete qui dell'Africa e del subcontinente indiano in pratica queste sono le grandi aree in cui si muore per appunto essere gravide e per il parto e questa è un'espressione del sistema sanitario perché un sistema sanitario evoluto fa sì che ci sia il parto assistito insomma disponibile facilmente global burden di HIV ricordiamoci dei 38 milioni di persone oggi come oggi infettate da HIV di cui per fortuna 78% stanno prendendo antiretrovirali e le morti si sono ridotte drasticamente da quelle che erano un milione e mezzo due milioni qualche anno fa a 650 mila all'anno questo è un modo di affrontare in maniera abbastanza olistica direi l'epidemia di HIV quindi vedete qua le varie direzioni strategiche come le chiamano nella strategia globale questa è l'informazione quindi dati questi sono gli interventi la clinica ecco la clinica per chi studia medicina e questa parte qua il resto come vedete qui è informazione quindi utilizzo dei dati database analisi e via dicendo il numero 3 è l'equità quindi gli aspetti chiamiamoli pure sociologici socio-antropologici della equità dell'accesso a tutti il 4 è il finanziamento la parte finanziaria quanto ci costa fare questi interventi e il 5 è l'innovazione cioè la ricerca questo è il modo chiamiamolo moderno di affrontare una pandemia come è anche quella da HIV questa è la tubercolosi non ho tempo per andare nel dettaglio tubercolosi ovunque uccide 10 chiedo scusa 1.6 milioni non so dove l'ho scritto eccolo qua 1.6 milioni di persone all'anno quindi qualcosa come quasi tre volte l'HIV e soprattutto in Africa in quanto pro capite tassi di incidenza pro capite ma in Asia per quanto riguarda il numero assoluto di casi proprio perché anche le popolazioni asiatiche malgrado abbiano un'incidenza pro capite inferiore hanno però una popolazione molto elevata quindi 45 sono India Indonesia e questi paesi 18% sono il West Pacific cioè la Cina le Filippine il Vietnam e così via e anche qui avevamo fatto quando ero ancora io all'OMS avevamo lanciato nel 2016 in realtà la strategia globale che aveva come base tre pilastri quello chiamiamolo pure biomedico quello clinico sotto questi pilastri stanno linee guida precise su diagnostica terapia e così via quello il secondo sui sistemi sanitari le politiche sanitarie necessarie compresa la copertura sanitaria quindi l'equità e infine il terzo sull'innovazione questa è la malaria anche qui i dati sono questi 240 milioni di casi 627 mila morti all'anno paragonabile a quelli dell'AIDS 95% casi e morti in Africa 80% di tutte le morti nei bambini sotto i 5 anni attenzione all'Uganda perché c'è la malaria quindi sarà meglio coprirsi con opportuna profilassi voi che ci andate e poi c'era il concetto del global burden of disease non risolto che è quello delle malattie non trasmissibili in cui c'è stato ben poco progresso avete visto nella malaria voi non vi ho mostrato comunque nell'HIV l'avete sentito le morti ridotte decisamente anche nel caso tubercolosi a parte l'ultimo anno a causa del covid però c'era una discesa regolare di incidenze di mortalità stesso nella malaria a parte il covid ma quello che non è avvenuto negli ultimi vent'anni è proprio questa cosa qua cioè la riduzione delle cause di morte non trasmissibile ricordo a tutti quali sono i quattro grandi fattori di rischio secondo l'OMS inattività diete tabacco alcol e tutto ciò genera le grandi patologie non trasmissibili cardiovascolari cerebro cardiovascolari diabete cancro respiratorie tabacco in sostanza croniche disordini mentali injuries e cioè i traumi che per esempio conseguono gli incidenti stradali legati all'alcol come sappiamo bene e queste sono le principali malattie non infettive ci aggiungerei forse qua per far piacere a Luca Pavesi anche un quadratino sulla salute orale che chiaramente poi tra l'altro incide anche sul cancro e queste sono le piaghe della civilizzazione il fumo l'obesità e questi sono gli altri aspetti importanti del global burden ritorniamo sugli infettivi e cioè le 40-50 nuove patologie emergenti o riemergenti cioè vecchie patologie del passato che riemergono in forma resistente per esempio la malaria la tubercolosi e così via le scherichia coli quel che volete lo stafilococco vancomicino resistente eccetera e soprattutto quelle virali notate che sono tutti virus a RNA tutti virus single a elica singola insomma facilmente facilmente soggetti a mutazioni che vanno dalla SARS alla MERS fino ovviamente al COVID di oggi e ricordo a tutti che uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile il target il traguardo numero 3D sotto all'obiettivo numero 3 è questo qua di rafforzare la preparedness il concetto di preparedness che non è esattamente preparazione è uno stato di preparazione generale contro le epidemie che è regolato fra l'altro dalle International Health Regulations del 2005 non ho tempo per parlare di tutte queste cose ma sappiate che questo è quello che regola la risposta alle pandemie per esempio l'OMSA ha il diritto oggi che non aveva fino al 2005 quando è stata istituita la nuova regolamentazione internazionale di sospettare un'eventuale pandemia di intervenire malgrado la ad esempio non volontà dei paesi a fornire dati e di dichiarare quella che viene definita una public health emergency of international concern o fake che è quello che è stato fatto per il covid il 30 gennaio del 2020 la dichiarazione di pandemia giusto per parlare di questa cosa venne mi pare intorno all'11 marzo con tutte le accuse false da parte dei media che non difendo l'OMS in questo caso ma dico le cose come credo siano state accusarono l'OMS di aver ritardato la dichiarazione di pandemia la realtà è che la dichiarazione di pandemia è una dichiarazione per i media non ha influenza da un punto di vista legale quello che conta è la fake questa avvenne il 30 gennaio il che significa la possibilità da parte dei paesi di giustificare legittimamente le misure che vengono prese ai porti di entrata in poche parole delle merci eccetera eccetera quindi il tutto era venuto ben prima di quello che dicevano i media poi qua si parla di epidemie varie lasciamo stare l'ebola la cicungunia che è a Ravenna nel 2007 nel Lazio due o tre anni fa grazie ai cambiamenti climatici lo stesso per la West Nile questa è legata all'Edes la zanzara tigre la cicungunia questa è la West Nile legata alla Culex quindi zanzare che a questo punto sono di una tale densità alcune addirittura diciamo si sono espanse grazie ai appunto ai cambiamenti climatici e quindi si rendono così disponibili a trasportare virus che una volta introdotti in un certo paese come l'Italia poi si diffondono e danno origine a queste epidemie questa è la West Nile e questo è il Covid che vi risparmio ma vi sottolino solo questo aspetto e cioè l'aspetto proprio che è andato contro la salute i concetti di salute globale e cioè quella che è stata definita come l'apartheid dei vaccini sapete tutti questo è New England un anno fa le statistiche sono migliorate di poco in sostanza i paesi a basso reddito come vedete qui le dosi per 100 persone sono state meno di 20 rispetto ai paesi come l'Italia dove le dosi sono state quelle che sono sono 180 200 quindi in pratica in pratica una situazione di apartheid dei vaccini grande problematica di salute pubblica e globale è questa è l'antibiotico o antimicrobial dovrei dire resistenza qui devo andare molto veloce insomma qui abbiamo in Italia i livelli più elevati di meticillino resistenza in Europa nello stafilococco di carbapenem resistant clepsiella neumonie con tanto di epidemie questa era in Toscana dato origine a questo update qua del 2018 e direi proprio che l'antimicrobial resistance è forse uno degli esempi più importanti di salute globale qui vediamo il concetto di One Health il One Health che esprime proprio un approccio combinato per quanto riguarda ad esempio questo fenomeno poiché riguarda la medicina umana quindi l'uso o abuso che si fa di antibiotici in comunità e negli ospedali quella veterinaria dove gli antibiotici sono usati come additivi e quella agricola dove si usano per prevenire malattie di certe piante per fortuna quasi tutti questi antibiotici non sono quelli usati nell'uomo ma in ogni caso esistono le cross reattività d'accordo e questo è il concetto del One Health Approach tra l'altro viene spesso confuso in Italia si dice dobbiamo affrontare le nuove pandemie con il One Health Approach dobbiamo affrontarle con la mentalità della salute globale non del One Health One Health è uno degli aspetti della salute globale che incorpora tre fondamentali settori che è quello della salute umana qui rappresentato in questo progetto ONU dall'Organizzazione Mondiale della Salute l'OIE che adesso ha cambiato nome ma che comunque è la salute veterinaria e questa è la FAO che tutti sanno è quella del cibo che sta di base a Roma a cui si è aggiunto recentemente anche UN Environment che è quella agenzia che si occupa dell'ambiente in quanto l'antibiotico o meglio ripeto l'antimicrobial resistance è un fenomeno che richiede interventi in tre settori quattro settori completamente separati i quali devono collaborare e questo è il One Health il One Health Approach ma come avrete capito il One Health Approach non è altro che una espressione della salute globale che affronta le problematiche in salute sotto tutte le prospettive in questo caso sono tre o quattro le prospettive oltre a quella dell'OMS per la salute umana quindi questo è per darvi un'idea del Global Burden of Disease e di cosa si studi in salute globale si studiano queste cose qua si studia l'epidemiologia delle malattie eccetera determinanti sociali lascio perdere questa e vi passo subito a questo concetto fondamentale in questo articolo del 91 in cui si parla per la prima volta in maniera cosciente di salute chiedo scusa fatto un errore qua si parla di salute dell'uomo della donna non solo sulla base di sesso età e aspetti chiamiamoli pure genetici costituzionali che stanno al centro ma di una serie di sfere che la influenzano i fattori di vita i fattori chiedo scusa i comportamenti anzi individuali il fumo l'esercizio l'alcol e così via che possiamo controllare che influenzano la nostra salute secondo strato quello giallo della rete sociale e comunitaria che ci circonda viviamo in una favela oppure viviamo al centro di Milano in un ricco appartamento sono due comunità totalmente diverse le possiamo influenzare solo in parte tutta la parte strutturale in verde ovvero la disponibilità di cibo l'educazione l'ambiente di lavoro la disoccupazione l'ambiente sanitario che ci circonda l'acqua potabile soprattutto i servizi sanitari housing cioè dove abitiamo in che condizioni viviamo tutti questi sono fattori strutturali che non possiamo quasi mai influenzare in maniera diretta non possiamo far nulla sul cibo che c'è a disposizione nostra sull'educazione che ci viene fornita o meno sui servizi sanitari che ci vengono forniti sull'acqua potabile eccetera e infine l'aspetto più ampio diciamo a livello di paese vale a dire le condizioni socio-economiche culturali ambientali d'accordo che sono in vigore nel nostro paese siamo in un paese cristiano e una certa cosa anche da un punto di vista religioso in un paese musulmano cambiano le condizioni quindi tutto ciò influenza il nostro stato di salute nel bene e nel male e le ineguaglianze nei sistemi sono ovvie ovunque questa è la mortalità infantile sotto i 5 anni in 5 paesi vedete come il quintile più ricco questo qua in grigio chiaro abbia una mortalità decisamente più bassa del quintile più povero che è quello in nero che vedete qua quindi questo è il gradiente sociale che si riferisce proprio alle ineguaglianze per esempio lo vedete qua in Uganda eccolo qua tra l'altro ci andrete e vedete questa situazione qua i più ricchi non muoiono i bambini dei più ricchi non muoiono muoiono pochi i bambini dei più poveri muoiono questa è per la tubercolosi stesso concetto questa è la commissione dei determinanti socio-economici che pubblica un rapporto importante Michael Marmot è quello che ha diretto questa commissione è il più famoso al mondo oggi come oggi in quanto a studi dei determinanti sociali ed economici della salute veramente un concetto di base in salute globale perché sta tutto lì in quello che determina la salute e cosa si può fare per alleviare l'impatto di vedete qua bad policies normative sbagliate aspetti economici aspetti politici vari che determinano la nostra salute in maniera in maniera come dice qua appunto tale da influenzare quello che sarebbe biologicamente invece possibile in eguaglianze esistono ovunque questo è Glasgow area più ricca nel nord ovest area più povera nel sud est aspettativa di vita dell'uomo 54 anni qua sotto a causa di vedete qua di disoccupazione violenza omicidi e via dicendo l'area più a nord ovest la cittadina di Lenzi eccetera con un'aspettativa di vita di 82 anni e questa immagine pubblicata una decina di anni fa che ci dice che prendendo la ferrovia che va da nord ovest a sud est perdiamo due anni di aspettativa di vita ad ogni stazione e lo stesso avviene fra l'altro in Italia non ho qui l'immagine ma se andate a vedere l'aspettativa di vita sana tra nord e sud ci sono quattro anni di differenza d'accordo quindi vuol dire che ci sono delle o sono fattori chiamiamoli pure genetici oppure ci sono delle condizioni dei determinanti che fanno sì che nel sud si muoia o meglio si muoia ci sia un'aspettativa di vita sana di quattro anni inferiore a quella del nord con qualcosa come un anno in quanto aspettativa di vita generale gli obiettivi di sviluppo del millennio sono questi qua qui vado veramente veloce li ho già citati in precedenza il numero tre ci dice questo assicurare una vita sana in sostanza e promuovere il benessere per tutti a tutte le età il concetto cruciale degli SDG è che ciascuno degli SDG è integrato e indivisibile rispetto agli altri se noi mettiamo al centro uno di questi SDG il nostro questo è stato fatto dall'OMS la salute qui vediamo l'influenza degli altri 16 SDG sulla salute ciascuno di questi la povertà ovviamente l'educazione la fame la nutrizione l'uguaglianza di genere l'energia pulita e via dicendo tutti questi fattori influenzano la salute umana lo stesso se noi mettessimo al centro qui qualsiasi altro SDG avremmo la stessa relazione l'SDG numero 3 quello dedicato alla salute ha come diciamo come traguardi dei traguardi specifici che sono sottolineati in questa diapositiva e qui avete mortalità non è giusto diapositiva in questa slide qui avete la mortalità materna infantile le malattie infettive vecchie priorità erano quelli degli MDG precedenti fino al 2015 a cui è stata aggiunta tutta la serie di fattori che determinano mortalità perdita di deli nell'epoca della transizione epidemiologica cioè abbiamo detto il 70% al mondo muore per malattie non trasmissibili di qui eccole qua non communicable salute mentale questa è la droga la tossicodipendenza e qui abbiamo gli incidenti stradali qui abbiamo la salute riproduttiva la copertura sanitaria e via dicendo quindi obiettivi traguardi ben precisi ognuno di questi ha i suoi traguardi specifici di riduzione di incidenze eccetera lasciamo stare i sistemi sanitari concetto di copertura sanitaria universale che vi ripeto fornire più servizi raggiungere più persone offrire più protezione finanziaria questo è il famoso cubo dell'OMS pubblicato una dozzina d'anni fa si accumulano i fondi grazie ad esempio alla tassazione e questi dovrebbero essere distribuiti in modo tale da fornire più servizi e qui entra in gioco il concetto di costa efficacia della banca mondiale se vogliamo estenderlo ai quelli non coperti fare in modo che tutti abbiano una copertura compresi ovviamente i rifugiati i migranti eccetera e ridurre al massimo quella che è l'auto pocket expenditure e cioè le spese di tasca nostra fare sì che il sistema provveda a queste spese questa è la copertura sanitaria universale ed è un concetto primario ormai in salute globale purtroppo i paesi che hanno meno copertura non a caso ovviamente sono anche quelli con le più gravi situazioni sanitarie quindi dove ci sono i più alti tassi al mondo di malattia siamo in Africa siamo nel subcontinente indiano che naturalmente hanno anche la minore copertura sanitaria universale e due cose sono chiaramente correlate la povertà induce la malattia e la malattia induce la povertà e è un circolo vizioso che continua l'OMS la saltiamo voglio solo sottolineare questa cosa qua queste sono le funzioni dell'OMS attenzione non è un'agenzia finanziaria deve fornire la leadership e il lavorare in partnership per quanto riguarda i grandi problemi di salute deve creare un'agenda di ricerca che sia ovviamente che abbia come base i concetti del global burden quindi il fardello mondiale di malattia le priorità deve creare le normative gli standard le linee guida anche tecniche per le malattie deve articolare le policy options queste sono le normative a più alto livello strategico in modo tale che queste siano etiche e basate sull'evidenza ha il compito di fornire supporto tecnico ai paesi c'è un ufficio MS in quasi tutti i paesi al mondo che ovviamente ha degli epidemiologi ha degli esperti eccetera e infine monitorare la situazione globale e aiutare a produrre o produrre quelle stime che poi entrano nel global burden of disease in quel famoso progetto e questi sono i vari attori se vogliamo in salute globale sono moltissimi dalle organizzazioni non governative alle fondazioni alle università ai bilaterali eccetera e qui lo vedete meglio ancora questo è un esempio ci sono migliaia di ONG e chiudo con la parte del clima anzi la chiudo velocemente facendo solo vedere questa immagine qua se poi volete ve la dico dopo ci sono una decina di diapositive qua ma solo per farvi vedere che secondo l'Economist il round preliminare con il covid era un round con se vogliamo di fronte un avversario del nostro stesso peso che siamo riusciti in buona parte a regolare ma ci aspetta vedete qua fuori dal ring questo signore qua che si chiama climate change e questo ovviamente non potrà che essere qui ci sono tutte le statistiche che volete non potrà che essere il grande problema dei prossimi decenni la salute globale a parte le solite pandemie che continueranno a appunto emergere dovrà vedersela con l'impatto enorme e che qui non ho il tempo di andare a studiare del riscaldamento globale con il già sappiamo lo vedete qua mi pare dove quello relativo aspettate un attimo è questo qui adesso ci arrivo che è stato eccolo qua il COP27 Shermal Sheik che ha detto lo vedete l'economist lo dice molto chiaro questo due mesi fa o tre dice say goodbye to 1.5 il famoso livello massimo che è considerato ragionevole per non cambiare troppo quelle che sono le nostre condizioni di vita sicuramente lo supereremo e se andiamo a vedere i modelli e purtroppo qui non ho tempo li ho tolti i modelli ma se andiamo a vedere i modelli matematici ci dicono che se tutto continua di questo passo al 2100 avremo un aumento di temperatura che è stimabile dai 3.5 ai 5 gradi centigradi di temperatura media con un numero di giornate di calore estremo definite come almeno 5 giorni con almeno 5 gradi superiori a quelli attesi che si aggireranno sui 250 giorni all'anno contro gli attuali 10-15 quindi potete immaginare cosa potrà succedere dico sempre non si vive più non si vive più a Milano ma si va a vivere da marzo aprile in avanti fino a fine estate si andrà a vivere ai 2500 metri del passo del Bernina per essere l'unico posto in cui si può effettivamente respirare quindi questo è quello che succederà purtroppo con questi cambiamenti climatici mi spiace da aver concluso così velocemente ma effettivamente sono andato molto più in là di quello che avrei dovuto e mi scuso per questo Mario innanzitutto grazie grazie mille c'è un un grande applauso in sala tu rimani collegato o ti salutiamo perché volevo farti una domanda no no magari sto collegato devo fare due o tre cosette ma intanto ascolto quindi va benissimo ok siccome la parte sulle malattie non trasmissibili di cui insomma siamo tanto cari io e Leandro le tratterà proprio Leandro che invito e magari presento esatto c'è qualche domanda per questo raviglione sei stato troppo chiaro Mario spero di non averli uccisi tutti te la faccio io una domanda ma è vero che abbiamo trovato malaria in Grecia sì c'è stato un caso l'ho sentito sì certo è stato un caso non so più quando esattamente se l'estate scorsa comunque di a quanto pare trasmissione autottona cioè quindi non importata come succede anche in Italia o ovunque no no sì sì ma guarda faccio riferimento prima la cicungunia quella viene dall'Africa eccetera e quindi è arrivata da noi nel 2007 quindi lì è bastato che arrivasse qualcuno infettato punto dalla zanzare in questo caso l'Edes Edes in fase di espansione decisa verso nord eccetera e quello ha fatto sì che si trasmettesse no dalla persona che ovviamente lo portava questo virus agli altri creando una situazione epidemica lo stesso con la West Nile no la febbre del Nilo occidentale sono sono tutti esempi di che cosa di che cosa ci si deve attendere quindi ma anche più solo la malaria quindi anche in Italia cioè a un certo punto dengue e malaria sono quelle candidate ad arrivare presto e poi l'altra domanda parlando con Gori settimana scorsa mi aveva fatto un cenno sulla sull'inversione della mortalità e aveva un dato che adesso non ricordo sul su quando supereremo con le infezioni batteriche la mortalità delle malattie cardiovascolari avevo capito bene penso che si riferisse alle infezioni batteriche antibiotico resistenti antibiotico resistenti esatto ci sono stati dei rapporti devo dire anche contestati degli inglesi soprattutto una quindicina d'anni fa in realtà che avevano previsto come ci fossero adesso non ricordo la cifra ma parlavamo di milioni di morti da infezioni batteriche antibiotico resistenti so che la tubercolosi anche lì veniva citata ad esempio come la forma multiresistente della tubercolosi come si espanderà e aumenterà diciamo che per arrivare al livello delle cardiovascolari insomma a livello mondiale parliamo di un terzo dei 55-56 milioni di morti all'anno calcola quant'è un terzo più o meno siamo sui 17-18 qualcosa del genere milioni che sono legate a malattie cardiovascolari per arrivare a quel livello ci vorranno delle vere proprie epidemie di batteri appunto altamente resistenti la mia opinione è che per fortuna molti di questi sono limitati nell'ambito ospedaliero quindi in tutto sommato è una percentuale molto bassa della popolazione mondiale e quindi lì sì ci sarà a livello percentuale diciamo pro capite se andiamo a vedere gli ospedalizzati lì sì che ci potranno essere degli aumenti anche perché proprio si sta facendo molto poco in Italia è purtroppo il paese dell'Europa occidentale con i più alti livelli di qualsiasi batterio andiamo a considerare dall'acinetobacter baumanni allo stafilococco ai vari schiecoli c'è l'enterobatteriacee clepsielle e così via abbiamo i livelli più elevati in Europa occidentale in quasi tutti i batteri di carattere soprattutto ospedaliero quindi è una problematica enorme che evidentemente è legata all'abuso che si è fatto di antibiotici nel corso dei decenni e poi non si può escludere anche l'utilizzo nel settore animale dell'allevamento eccetera che abbiano influito su questa cosa quindi è un problema enorme questo sicuramente poi noi come odontoiate ne parlerà Leandro insomma contribuiamo molto a questa antibiotico resistenza allora presento Leandro Leandro Bardi che magari anticipa anche tu collabora con te giusto? sì collabora con noi adesso lui è dotato di un assegno di ricerca e sta lavorando principalmente su un progetto covid anche se è coinvolto in vari altri progetti e si spera in futuro devo dire che ci sia la possibilità in effetti di andare a lavorare su salute orale perché credo sia una delle aree più trascurate lo dirà lo stesso Leandro sicuramente una delle aree più trascurate al mondo in questo momento in quanto a problematica di salute per cui con tutti i risposti parliamo della malattia con maggior prevalenza al mondo corretto? adesso questo non lo so la carie dentale la dico io la malattia con maggior prevalenza al mondo sicuramente tra l'altro una curiosità la prima causa di perdita di disabilità al mondo sapete qual è? è il male alla schiena il global burden of disease il dolore lombare è la prima causa di disabilità quindi e la carie non mi stupisce Mario allora ti porto i saluti delle professoresse e nostre direttrici di corsi di laurea di medicina così se rimani collegato ma non più visibile insomma ti forgo i loro saluti che sono qua con me e allora Leandro Baldi ha una formazione da igienista dentale Università di Firenze ha un doppio master quindi il master in science in delta al public health conseguito alla University College giusto of London e poi ha fatto come primo di area salute orale sei diplomato al tuo master che è un master di secondo livello che poi ne farò ampia promozione tra gli studenti qua in sala Mario grazie grazie mille quindi ti ringrazio nuovamente Mario e passo la parola a Leandro ecco dico solo una cosa agli studenti adesso entriamo nella parte delle malattie non trasmissibili in particolare salute orale quindi diciamo le file degli odontoiatri sono interessati secondo me è interessante anche per per voi medici però ovviamente se ritenetevi liberi di di abbandonare la sala nel caso ok quindi Leandro prego ti passo la parola io direi una mezz'oretta comoda e poi ecco teniamo la parte sulla 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 calibratura finale prego Mario ciao a tutti mi sentite sì sì cerco di fare veloce di non annoiarvi troppo ok si parte dalla definizione cos'è la salute orale nel 2003 l'organizzazione mondiale della salute ha definito la salute orale come uno stato di assenza di dolore cronica alla bocca e al viso di cancro orale e alla gola di infezioni piagorali di malattie parodontali carie perdita dei denti e altre malattie disturbi che limitano la capacità di un individuo di mordere masticare sorridere e parlare limitando il suo benessere psicosociale come vedete ovviamente la prima definizione del 2003 è molto più focalizzata sulla patologia che sull'individuo o sul paziente come affermava prima Mario c'è stato un aggiornamento nel 2016 della World Dental Federation fino a che non siamo arrivati alla definizione finale sempre rilasciata da WHO che definisce la salute orale come lo stato della bocca dei denti e delle strutture orofacciali che consenta agli individui di svolgere funzioni essenziali come mangiare respirare e parlare e soprattutto comprende dimensioni psicosociali come la fiducia in se stessi il benessere e la capacità di socializzare e lavorare senza dolore disagio o imbarazzo la salute orale ovviamente varia nel corso della vita dalla prima infanzia alla vecchiaia è parte integrante della salute generale e supporta le persone nella partecipazione alla società e nel raggiungimento del loro potenziale perché è importante la salute orale a livello mondiale ma anche a livello della vostra vita quotidiana perché circa 3 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo sono state colpite da malattie del cavo orale nel 2019 rendendole le condizioni patologiche più diffuse tra le oltre 300 malattie e condizioni che colpiscono l'umanità secondo il classico global burden of disease study e come vedete tutte le varie quattro fasce di income dei paesi suddivisi dalla World Bank sia nei paesi a basso reddito sia nei paesi ad alto reddito come possiamo essere noi o altri paesi le malattie del cavo orale sono sempre al primo posto e questo perché per esempio il numero dei casi globali è aumentato di un miliardo negli ultimi 30 anni ricordiamoci la popolazione del mondo si aggira fra gli 8 e 9 miliardi di persone di conseguenza un aumento di un miliardo negli ultimi 30 anni di casi di prevalenza annuale è molto e questo infatti indica che molte persone non hanno accesso a un'adeguata assistenza sanitaria orale che include prevenzione protezione da rischi e i vari servizi terapeutici e riabilitativi tra le principali malattie orali abbiamo la carie non trattata dei denti permanenti che è la più diffusa e colpisce circa 2 miliardi di persone all'anno segue la malattia parodontale grave con circa un miliardo di casi dopodiché abbiamo la carie dei denti del deciduo ovvero dei dentini di latte con circa 510 milioni di casi l'edentulismo che l'edentulismo viene definito come la completa assenza di denti o un minimo di 8 denti all'interno del cavo orale e questo ha colpito 350 milioni di persone e tutti questi tutti questi 3 miliardi e mezzo solamente nel 2019 poi ovviamente ci sono anche altre malattie del cavo orale che comprendono i vari cancer del labbro e del cavo orale le manifestazioni orali delle malattie sistemiche come l'HIV erosione e usura dei denti le conseguenze dell'abuso di sostanze il Noma che penso sia la malattia più negletta al mondo le malformazioni congenite le infezioni virali fungine batteriche e i traumi queste immagini vi fa vedere la prevalenza della carri dei denti permanente a livello mondiale e come vedete anche un paese come il nostro l'Italia rientra in una fascia di prevalenza del 30-35% e siccome in Italia siamo all'incirca 65 milioni questo fa sì che all'incirca 19 milioni di persone in Italia subiscano o hanno delle carri attive non curate durante l'ultimo anno perché la malattia orale ovviamente sono molto sempre importanti perché il numero combinato di stimato di casi di malattia orale a livello globale è superiore di circa un miliardo rispetto ai casi di tutte e cinque le principali malattie non trasmissibili che come accennava prima Mario sono i disturbi mentali le malattie cardiovascolari il diabete le malattie respiratorie croniche i tumori quindi noi vediamo che le malattie del calorale sono superiori numericamente di tutti e cinque i maggiori ansidisme sommati tutti insieme infatti rimangono un po' un importante problema di salute pubblica a livello mondiale non sono migliorate negli ultimi trent'anni e questo da cosa deriva sempre dai discorsi anche accennava prima Mario ovvero dalla transizione epidemiologica dalla transizione nutrizionale da cambiamenti demografici come l'espansione della popolazione l'invecchiamento l'urbanizzazione ai movimenti della popolazione ma soprattutto dai determinanti sociali e commerciali di salute se non sapete sapete cos'è la transizione nutrizionale ok la transizione epidemiologica è quella che fa sì come spiegava prima Mario che da morire per lo più per malattie infettive pian pianino andremo a morire per malattie non trasmissibili radiovascolari e quant'altro la nutrition transition la transizione nutrizionale è quello stesso procedimento procedimento e sta avvenendo nei paesi poveri che ovviamente anche lì pian pianino stanno per essere globalizzati e di conseguenza tutti cosa fanno iniziano a bere più coca cola mangiano più cioccolate scusate su fiorentino con la cannuccia comunque iniziano a mangiare quello che è bene definito in Inghilterra i junk food essenzialmente e questo perché perché comunque i cibi non salutari sono meno costosi dei cibi più salutari è più facile comprarsi una barretta di un Mars a un euro che magari che delle verdure da cuocere o frutta e quant'altro io gli ultimi sette anni ho vissuto a Londra questo è proprio palese e ti compri un metro di Mars a un pound però per comprarti un pomodoro sono tre pound un pomodoro da 150 grammi per intendersi comunque per spiegarvi bene i social determinanti o verti determinanti sociali di salute quasi lo stesso esempio che vi faceva Mario prima l'aspettativa di vita allora i social determinanti sociali di salute ovviamente sono le circostanze nelle quali una persona nasce, esce, vive lavora e invecchia qui abbiamo l'esempio il caso di esempio di Glasgow che fra il quartiere più povero e il quartiere più ricco di Glasgow c'è una differenza di aspettativa notevole perché nel quartiere più ricco un uomo fuori all'incirca a 82 anni nel quartiere più povero della stessa e della città ha l'aspettativa di vita di 66 anni c'è una differenza di vita quanto sono 16 16 anni l'aspettativa di vita nella stessa identica città con questa stessa cosa succede a Monza succede a Milano succede a Torino succede in tante altre città tanto è vero uno dei più grandi epidemiologi epidemiologhi italiani Giuseppe Costa di Torino lui ha fatto più o meno la stessa cosa con le fermate dell'atobus però invece che a Londra lui l'ha fatto vedere su Torino e dal vivendo in collina a Torino e sono zone un pochino più posce se mi permette il termine più ricche hanno un'aspettativa di vita molto più alta rispetto a che se vivi nelle zone un pochino più povere di Torino questo vi fa vedere un attimino l'ombra che se vivete nelle zone più posce più ricche quelle a ovest avete un'aspettativa di vita magari di 90 91 96 anni andate pian pianino verso l'ist verso le zone più povere l'aspettativa di vita pian pianino si abbasserà sempre di più sempre ritornando alle malattie del cavo orale chi è colpito? ovviamente tutti da quando nasciamo a quando moriamo perché ovviamente i denti pian pianino ce l'avremo tutti infatti la salute orale non può essere sottovalutata e tutti possono sperimentare questi problemi ad un certo punto della loro vita e qui fa vedere cari dei denti di latte cari dei denti permanenti malattie parodontali del pulito da quando possono partire e che impatto possono avere sulla vita dell'individuo durante tutto quello che viene definito il life course tutta la sua aspettativa di vita social gradient da cosa deriva ovviamente i determinanti sociali di salute e quant'altro i disturbi sempre tornando alla salute orale i disturbi orali sono prevenibili e curabili ma possono avere effetti negativi su individui comunità e società nel suo complesso le patologie orali possono essere un indicatore clinico di privazione sociale ed economica e si può affermare che sono anche un importante indicatore del determinamento della salute generale infatti le malattie orali colpiscono in modo sproporzionato i poveri e altri segmenti vulnerabili della società infatti esiste un'ampia e persistente correlazione tra lo stato socio-economico e l'incidente alla gravità delle malattie orali dove questi sono un classico esempio del gradiente sociale e questa immagine ve lo fa proprio vedere si parte dal ragazzo povero e vive nel quartiere povero di una città chiamiamola Londra chiamiamola Milano chiamiamola come volete pian pianino questo è un operario normale finché magari non serviva a persone adottori avvocati e quant'altro che hanno degli ottimi guadagni e si passa da avere un dentino a probabilmente avere completamente ancora tutti i denti all'interno della bocca questo deriva ancora dai determinanti sociali di salute che ovviamente è dal gradiente sociale tornando all'unione fra malattie orale e malattie non trasmissibili le evidenze scientifiche indicano che esistono diversi fattori di rischio condivisi tra le malattie orali e le malattie non trasmissibili tra cui i classici l'uso del tabacco il consumo di alcolici una dieta ricca di zuccheri e determinanti sociali di salute quindi un'azione di salute pubblica di salute globale è che affrontando i rischi comuni e quindi ovviamente è essenziale affrontare anche determinanti sociali di salute soprattutto se si devono apportare dei miglioramenti e ridurre di conseguenza le disuguaglianze nella salute orale e generale a livello globale e qui ovviamente fa vedere malattie tra cui ci sono malattie però in Italia gli altri malattie andio-vascolari e tutti i fattori di rischio principali tabacco altro esercizio traumi di genere la dieta lo stress e tutti questi intorno ovviamente sono i determinanti sociali di salute gli stessi che vi faceva vedere prima Mario ovvero la povertà l'ambiente il tipo e il sociale intorno al quale viviamo in che tipo di abitazione abitiamo perché logicamente se abitiamo in una zona povera in palazzoni super affollati di persone non è la stessa cosa come vivere in una zona più bella più pulita è più verde della di una stessa città un altro dei grossi problemi della salute orale è che rappresentano un onere economico significativo per la società infatti il loro onere economico e questo non solo per le malattie orali ma per tutte le malattie in generale include i costi diretti ovvero quello che la persona o paziente pagherà direttamente al professionista per essere curata i costi indiretti come la perdita di produzione dovuta all'assenza dal lavoro o l'assenza da scuola se uno è giovane i costi di trasporto eccetera e poi ovviamente i costi immateriali e di disabilità come il dolore problemi nella masticazione e quant'altro che sono tutti problemi importanti che ricadono sull'individuo e sulla sua qualità della vita tanto è vero tanto per capire quanto si spende per la salute orale in un confronto delle spese di malattia degli stati membri dell'UE nel 2015 i disturbi dentali si sono cazzati al terzo posto dopo il diabete e le malattie cardiovascolari con una spesa di 90 miliardi di euro in tutta Europa solamente nel 2015 adesso siamo nel 2023 si sta spendendo molto e molto di più tanto è vero sempre nello stesso anno a livello mondiale è stato speso 544 miliardi di dollari per le malattie per le malattie orali e da notare ovviamente che l'80% di queste spese si è verificato ovviamente nei paesi ad alto reddito nei paesi ricchi ciò fa capire ovviamente il resto di 20% di 544 miliardi è speso in tutti i paesi poveri e per le persone povere che sono tanti infatti esistono differenti sostanziali nei costi delle cure dentistiche e nell'uso ricorrente di pagamenti al di fuori delle tasche quelle in global health vengono definiti out of pocket payment che pian pianino questi possono portare alla catastrophic health expenditure la stessa cosa che diceva prima Mario quindi pagamenti fuori di tasca ti possono portare a far sì che se tu possa spendere più del 10% di tutto il tuo guadagno annuale e questo farà sì che ti darà una spesa catastrofica che ti porterà sotto il grado di povertà che se non ricordo male il grado la soglia di povertà viene considerato il poter spendere meno di un dollaro e 90 al giorno a persona quindi vi faccio un esempio anche semplicemente qui in Italia una persona normalissima che guadagna 1200-1300 euro al mese se va dal dentista e il dentista gli dice c'è da fare una devitalizzazione poi c'è da mettere una corona e allo stesso tempo c'è da fare l'igiene e ti viene fuori un preventivo da 1000 euro una persona che ne guadagna 1200 al mese o non lo fa o si dovrà andare a indebitare per poter essere trattato tante persone stanno col dolore finché non non perdono denti per altri motivi ovviamente o se li tre levano da soli davvero manca poco con una pinza è brutto dirlo ma può succedere comunque ritornando alle persone povere gli individui con eh socio economic status bassi ovviamente quindi la scala sociale sono quelli più bassi sono soggetti a costi diretti e indiretti delle cure dentali affrontano infatti un rischio significativamente più elevato di scarsa salutorale di impoverimento e di spese catastrofiche rispetto a quelli nei stati socio economici più alti infatti qui vi fa vedere ulteriormente che il gradiente sociale si vede per tantissime malattie nella salutorale è molto più semplice vederlo infatti qui i più ricchi hanno una quantità media di numeri cariati ovviamente molto inferiori rispetto a più poveri i ricchi si attestano intorno allo 0,5 i poveri hanno una media di almeno due denti cariati con una cariattiva e vivere una vita con le cariattive non è carino sinceramente sicuramente tutti ne avete sofferto o spero di no ma probabilmente ne soffrirete durante la vita infatti vi vi accorcio un pochino le disuguaglianze di salute orale sono definite come differenze nello stato di salute orale che sono evitabili ingiuste e inaccettabili infatti affrontare le disuguaglianze di salute è una questione di giustizia sociale politica etica di salute pubblica e di pratica professionale perché ci sono queste differenze perché c'è una disuguaglianza nell'accesso alle cure infatti il costo dell'assistenza sanitaria orale è elevato con la maggior parte delle cure fornite dal settore privato in Italia noi siamo uno degli esempi maggiori io ho lavorato i miei primi 5 anni da igienista dentale in Italia poi mi sono trasferito a Londra ho lavorato altri 6 anni in clinica a Londra si vede si sente particolarmente la differenza ma tantissimo infatti per farvi un esempio la spesa media pro capite nei paesi a basso reddito è di 50 centesimi di dollaro mentre i paesi ad alto reddito spendono una media di 260 dollari pro capite 500 volte di più cioè noi in Italia spendiamo per le nostre cure dentali spendiamo in media 500 volte di più di che può spendere una persona in Tanzania in Uganda in alcuni paesi del Sud America e dell'Asia è tanto infatti il rapporto tra gli importi totali spesi per l'assistenza sanitario è ancora peggiore tutti i paesi a basso reddito insieme spendono 800 volte meno di tutti i paesi ad alto reddito insieme fa notare le differenze fra noi che siamo ingrati nel Global North e quindi siamo più fortunati rispetto a essere nati nel Global South ci sono grosse differenti ovviamente come sapete anche voi l'assistenza sanitaria orale è dominata da una filosofia interventista incentrata sul trattamento invece che ha un approccio proattivo e preventivo e un altro dei più grossi problemi è la separazione dell'assistenza sanitaria orale da altri servizi sanitari e cure è la più grande sfida da superare per migliorare la salute orale di tutti gli individui infatti le problematiche principali sono una distribuzione ineguale di professionisti della salute orale e di conseguenza di strutture sanitarie una mancanza di politiche sanitarie adeguate una mancanza di alfabetizzazione per la salute orale quella viene definita oral health literacy e una mancanza di copertura accesso alle cure universali si ritorna all'universal health coverage per soddisfare le esigenze della popolazione infatti tali sfide stanno limitando l'effettiva prevenzione e il trattamento delle condizioni di salute orale Mario prima faceva l'esempio che noi in Italia siamo stati considerati sempre uno dei paesi migliori per l'universal health coverage per l'accesso al lucore universale ma sappiamo benissimo noi che l'accesso al lucore odontoiatrica in Italia è quasi per lo che è impossibile io ho fatto ho fatto fare una prova alla mia sorella ho un nipote di 15 anni gli ho fatto Anna per favore chiama la usle di Firenze e digli fissa una visita dicendo che il tuo figliolo ha una carie su un primo molare ha chiamato a novembre e gli hanno dato l'appuntamento ad aprile non è accesso universale alle cure in un ragazzino di 15 anni una carie di prima classe a novembre probabilmente ti diventa una devitalizzazione ad aprile ad aspettare tutto questo tempo quindi cosa sei o stai costretto ad andare dal dentista privato e pagare o ti tieni il dolore con tutte le conseguenze del caso che può fare tenersi il dolore ritornando a uno dei problemi workforce barrier ovvero una delle più grosse barriere sono i professionisti e qui lo vedete nei paesi ricchi ogni 10.000 pazienti ogni 10.000 persone c'è una media di quasi 7 dentisti nei paesi poveri c'è mezzo dentista ogni 10.000 persone c'è la nostra differenza anche tornando a l'assistente dentale terapisti e mettiamoci dentro anche gli inginisti si passa dalla media di 12 ogni 10.000 persone nei paesi ricchi a 0,08 nei paesi poveri poverole si può dire non c'è nessuno io sono stato in Tanzania a Pemba un'isola dell'arcipelago di Zanzibar lì nei tre ospedali nelle dental clinic l'unica cosa che fanno è estraggono 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 non fanno otturazioni non fanno niente perché non hanno negli strumenti né nulla però ho visto estrarre i denti da clinical officer che sono persone con una pseudolaria triennale ho visto estrarre i morali in 5 secondi roba che in Italia ci si mette 45 minuti fra preparazione controllo dell'infezione anestesia quello e quell'altro lì l'unica terapia via via anche perché hanno solo quello strumenti non vi faccio vedere le foto ve le dovete vivere queste cose se andrete in missione pinza arrugginite senza guanti poltrona rotta tutti sulla stessa poltrona paziente si sdraia quale dente fa male quello via avanti il prossimo in alcuni settaggi dei paesi poveri è così poi un altro dei problemi principali social determinante offerte ma soprattutto commercial determinante offerte qui lo vedete benissimo Coca Cola spenderà 12 milioni scusa 12 miliardi di dollari per pubblicizzare i suoi prodotti in Africa nel 2020 nello stesso anno la Pepsi spenderà 5 miliardi e mezzo nel 2017 l'Organizzazione Mondiale della Sanità per chiude la salute per tutte le cose deve fare e spende 4.4 rendetevi conto la differenza per pubblicizzare un qualche cosa sicuramente farà male alla salute perché lo sappiamo tutti che i fizzy drink e quant'altro fanno male alla salute guardate quanto viene investito e questo si vede meglio qua in quest'altra diapositiva questo è quello che dovremo mangiare quello è quello che viene pubblicizzato in televisione o alle fermate degli autobus o sui diatomus infatti questo fa capire tante cose per ogni pound speso dall'Organizzazione Mondiale della Salute per promuovere diete salutari le grandi compagnie i vari Big Sugar e quant'altro mi spendono 500 di pound per pubblicizzare prodotti che fanno male alla salute pizza drink cioccolate e quant'altro ovviamente questo ve l'ha accennato un pochino Mario qui faccio vedere questa me la sono creata io faccio vedere comunque anche la stessa salute orale che fino adesso viene sempre stata è sempre stata considerata dentro il suo silos come è stata definita dall'anset invece non deve essere considerata nel suo silos perché la stessa salute orale è connessa da almeno se non sbaglio 13 dei 17 sustainable development goal e anche qui potrei spendere una mezz'oretta a farvi capire tutti i passaggi perché la salute orale è importante a livello globale e qui ve lo faccio vedere un pochino meglio sia perché siete dottori sia perché siete dentisti ne parlava anche prima Mario uno dei più grandi problemi futuri del mondo è la resistenza l'antimarecrobial resistance infatti è causata dall'uso improprio di antibiotici nell'uomo i dentisti sono responsabili di circa il 10% di tutte le prescrizioni antibiotiche per l'uomo a livello globale 10% è tanto se si ritorna al discorso siamo in 9 miliardi sulla faccia della terra nonostante i tentativi di limitare l'uso di antibiotici dentali i dentisti continuano a somministrare troppo antibiotici infatti una ricerca UK ha scoperto che l'80% degli antibiotici usati per trattare i problemi dentali acuti non erano necessari mentre uno studio negli USA ha scoperto che l'80% degli antibiotici utilizzati per la profilassi non era adatto né suggerito quindi per tanti per come si dice a Firenze prepararsi la parte dietro antibiotici a diritto almeno si lavano le mani da quello che può succedere probabilmente non succederà però danno antibiotici infatti l'odontoiatria ha l'obbligo di impegnarsi e contribuire allo sforzo mondiale per combattere la resistenza antibiotica un altro invece dei grandi problemi è l'unione fra la salute reale e la convenzione di mena amata questa non so se l'avete mai sentita nominare è una convenzione sul mercurio è stata stipulata nel 2013 un po' però il mercurio deve essere smesso di usare perché è tossico per l'ambiente è tossico per l'essere umano per tantissime cose e anche qui l'odontoiatria contribuisce per un 10% del totale dell'emissione del mercurio nel nostro mondo anche qui il 10% è un numero importante che deriva dall'odontoiatria il concetto downstream è un concetto un po' in particolare c'è in salute pubblica ovviamente c'è in salute globale noi poi dottori del fischi con le schete tendenzialmente quando noi facciamo clinica sono sempre qua siamo in fondo al fiumiciattolo tra virgolette e qua su invece c'è la fabbrica di malattie guardandolo al punto del visto orale i dolci le parande gli alcolici e quant'altro qua si produce le malattie però noi interveniamo solo qua la salute pubblica la salute mondiale la global et invece i piantanino devono iniziare ad agire upstream prima che la gente prima che le persone si ammalino e questo come con promozione ed educazione alla salute che sia orale o comunque sia salute generale bisogna fare quella perché sicuramente se promuoviamo la salute spenderemo anche di meno sia a livello di salute pubblica e globale ma sia a livello delle stesse finanze che può spendere una persona perché se una persona si lava le mani si lava i denti ha una dieta salutare fa esercizio fisico e quant'altro sicuramente o anzi molto probabilmente avrà meno malattie o meno patologie di una persona che invece fa tutto l'opposto infatti per parlare un pochino più nello specifico la ricerca e varie evidenze scientifiche hanno dimostrato che esiste una relazione bidirezionale tra le malattie del cavo orale e le malattie non trasmissibili l'assistenza sanitaria deve essere considerata in modo listico con sforzi per promuovere le azioni verso un approccio a fattore di rischio comune di pari passo con le malattie non trasmissibili ridurre l'onere della malattia orale richiederà un'azione a monte upstream invece che a valle downstream con una serie di politiche e implementazioni rivolte agli ambienti in cui le persone vivono o lavorano infatti politiche di sanità pubblica come un accesso universale alle cure la florizzazione delle acque le tasse sugli zuccheri e gli interventi a livello di comunità come i programmi di prevenzione e promozione della salute orale all'interno delle scuole o negli ambienti lavorativi dovrebbero essere presi in considerazione in quanto hanno il potenziale per promuovere sia la salute orale che quella generale qui è anche un'altra diapositiva che vi fa vedere il concetto upstream downstream noi clinici come vedete siamo qui ci stipulano in meno da qui a salire si parte la prevenzione clinica l'educazione alla sede accanto alla sede del dentista l'educazione nelle scuole ma se gli stati come l'Italia non fanno niente per promuovere la salute che sia orale o che sia generale quindi magari anche una semplice tassa sugli zuccheri come hanno fatto in UK come hanno fatto in Messico a fine anni Ottanta e quant'altro cambierà poco perché tanto è vero per farvi un esempio sugli zuccheri quello che suggerisce l'organizzazione mondiale la salute sono 36 grammi di zucchero al giorno ad assumere con il caffè la frutta qualsiasi tipo di zucchero in Italia ne abbiamo una media di 87 grammi al giorno il triplo di quello che viene consigliato oltre al fatto che noi in Italia magari non ci muoviamo tanto magari stiamo anche noi iniziando ad avere una dieta che non è proprio mediterranea ma si sta modificando e sta diventando una dieta occidentale quindi junk food fizzy drink deliver che ti porti a mangiare a casa non te lo cucini più non vai nemmeno a farti la spesa e quant'altro qui sempre UHC universal health coverage qui le malattie orali infatti come detto prima sono principalmente prevenibili e o curabili con alleguanti interventi basati sull'evidenza scientifica tali politiche migliorerebbero la salute orale della popolazione e il benessere generale con conseguenti significativi vantaggi economici derivanti da possibili minori costi di trattamento e un uso più efficiente delle risorse sanitarie nonché minori perditi di produttività a scuola e nel mercato del lavoro e questa è una slide che ho creato io che fa vedere come il fatto universale alle più soprattutto per il futuro settoriale farà sì che andrà ad avere un impatto sulle malattie per calorare ma non si si sente sulle malattie che non sono inizie e più al termino andrà ad andare ad avere un impatto sui propri determinati prossimi mali di salute ovvero l'impatto di rischio e i comportamenti sbagliati dell'individuo e a tutti i vari determinanti sociali di salute strutturali intermediali e quelli commerciali la potete leggere in tutti e due modi nel senso si deve partire dall'assù perché se non si interviene su un determinante strutturale su quegli intermedi e su quelli commerciali sarà quasi impossibile abbassare il carico delle malattie sia orali sia generali e di conseguenza sarà impossibile arrivare ad un accesso universitale alle cure e viceversa quindi bisogna per forza intervenire ad un certo punto sicuramente a livello politico e civile azioni di salute pubblica e salute globale che funzionano rispetto alle malattie del cavo orale soprattutto alla carie sono i floruri ma penso che questo lo sappiate non vi sto a fare scusare la parola il pippone ovviamente i dentifrici però per esempio sui dentifrici c'è da fare una precisazione per noi è semplice andare al supermercato a comprare un dentifricio probabilmente non ci peserà mai però non tutti hanno l'accesso al semplice dentifricio e non tutti possono lavarsi i denti o il dentifricio tant'è vero un recente studio condotto da WHO ha valutato l'accessibilità ai dentifrici in 78 paesi i risultati mostrano il dentifricio al flore è un prodotto molto conveniente nei paesi ad alto reddito relativamente conveniente nei paesi di reddito medio e altamente insostenibile nei paesi a basso reddito infatti una persona che vive con il reddito di riferimento del lavoratore statale non qualificato meno pagato in un paese ad alto reddito dovrebbe lavorare circa quattro ore e mezzo per acquistare una fornitura annuale di dentifricio quattro ore e mezzo per un anno di dentifricio una persona della stessa categoria di reddito che vive in un paese a basso reddito invece deve lavorare in media tre giorni e mezzo per acquistare la stessa quantità di dentifricio da quattro ore e mezzo a tre giorni e mezzo per la stessa quantità di dentifricio quindi anche nel paese povero probabilmente tante persone non se lo comprano nel dentifricio perché gli andrà a impattare sulla qualità della vita e sulle loro finanze e di conseguenza preferiscono comprarsi il cibo per sopravvivere che comprarsi il dentifricio per lavarsi i denti la florealizzazione dell'acqua si ritorna lì in quanto strategia sanitaria basata sulla popolazione non discrimina in base alla classe sociale e fornisce benefici sanitari universali a tutti i gruppi all'interno di una comunità riducendo allo stesso tempo le disuguaglianze c'è da notare che questa è una delle azioni più cost effective tant'è vero si spenderebbe circa 50 centesimi di dollari all'anno pro capite e i tassi stimati di riduzione delle carie per esempio variano tra circa il 25% e circa il 60% a seconda dello studio e della zona dove è stato fatto lo studio infatti WHO raccomanda dei livelli appropriati di flore che siano compresi all'interno dell'acqua fra mezzo milligrammo e un milligrammo per litro di acqua scusate a seconda del consumo medio di acqua e del clima ovviamente questo dipende da zona e zona ci sono zone che le acque sono meno florate e ci sono zone dove le acque sono molto più florate qui in Italia se non sbaglio una zona con l'acqua più florata in assoluto è la Campania tant'è vero in Campania ci sono stati tantissimi casi di fluorosi e le malattie che derivano da troppa assunzione di floro un'altra delle cose che funziona più in assoluto si sta vedendo recentemente sarebbe la tassa sugli zuccheri che ovviamente qui in Italia è stata subito affossata se non sbaglio c'era il governo Renzi in quel momento probabilmente Big Sugar la brava lobby che ha tirato fuori tanti soldini e non è stata implementata invece è stata implementata mentre ieri avviverò a Londra nel 2016-2017 e gli studi che stanno tirando fuori da tutti i dati rilevati in questi anni che è stata implementata la tassa sugli zuccheri sta vedendo e sta dando ottimi risultati perché non dare solo risultati sulla carie ma dare risultati sugli obesi dare risultati sui pazienti diabetici e quant'altro oltre al fatto quelli sono tutti introiti maggiori che vengono di conseguenza spesi per la salute pubblica perché non vengono spesi per altre cose vengono direttamente dilottati per continuare a fare azioni di salute pubblica e per farvi capire la tassa era fino a se non sbaglio fino a 8 grammi di zucchero all'interno di una bevanda erano 10 centesimi di pound oltre diventavano 20 centesimi quindi ci sono state tantissime aziende che hanno cambiato il loro recipe gli ingredienti la loro quantità di ingredienti la classica coca cola ha detto io me ne frego perché tanti i miei clienti anche se costo 50 centesimi di più mi continueranno a comprare invece ci sono tantissime altre aziende hanno cambiato leggermente la loro ricetta e hanno abbassato per non dover pagare ulteriormente questa tassa faccio un esempio di UK perché UK penso sia uno dei paesi al mondo con un livello di obesità pazzesco se non sbaglio oltre il 30% delle persone sono obese come USA però per fargli capire in UK c'è una parte dei vigili del fuoco che serve apposta per andare nelle case e tirare fuori i super obesi cosa è noi in Italia non ce la sogniamo una cosa del genere lì ci sono ogni città c'è una squadra di vigili del fuoco fatta apposta per muovere da casa le persone particolarmente super obese questi sono esempi di azioni che hanno funzionato per esempio in Giappone questa ve la leggo perché è carina nell'87 fecero una ricerca epidemiologica e hanno visto le persone di 80 anni avevano in media circa 5 denti naturali causando malnutrizione e cattiva salute negli anziani perché logicamente senza denti non puoi masticare e di conseguenza non puoi assorbire le sostanze che assumi dall'alimentazione nel modo corretto non le assumi quindi due anni dopo sulla base di nuovi dati il ministero della salute associazione dentale di Giappone ha lanciato la campagna 80-20 l'obiettivo era quello di garantire le persone avessero ancora 20 dei dolori ai denti naturali all'età di 80 anni in modo che potessero mantenere il benessere nutrizionale e sociale un follow up dell'indagine epidemiologica svolta nel 2016 ha mostrato la campagna 80-20 ha avuto successo nel raggiungere i suoi obiettivi con la metà della popolazione di 80 anni che ha mantenuto più di 20 loro denti naturali e questo come l'hanno fatto? semplicemente con prendendo di mira tutte le generazioni puntando sulla promozione ed educazione ad una buona generale sulle visite dentali di Nutin ed evitando il consumo di zuccheri quindi l'hanno fatto con azioni semplici non è che sono dovute andare sulla luna per avere questo miglioramento soprattutto sulle bocche delle persone anziane ovviamente essendo uno dei più grossi problemi del mondo l'ageing ovvero l'invecchiamento e questo faccia sì che tutti vivremo di più e di conseguenza tutti avremo più malattie anche quelli del cavo orale più denti avremo più malattie del cavo orale avremo quindi se insegniamo un'educazione alla salute orale che è la semplicemente educazione alla salute generale e la promuoviamo sicuramente avremo dei benefici per la salute orale ma avremo anche dei benefici per la salute generale questo voi avevate mai pensato a tutti gli impatti che vuole avere la salute orale sull'individuo queste sono evidenze scientifiche dimostrate lo sapevate una cattiva salute orale può avere un impatto sull'educational attenuamente ovvero quanto ti impari nell'andare a scuola più problemi del cavo orale più cari hai e probabilmente più perderai i giorni di scuola più avrai dolore non potrai concentrarti meno studierai ovviamente impatto nell'estetica e con ridotta stima di se stessi e quello unito anche alla paura o all'ansia che un paziente o una persona può avere ad andare dal dentista vanno a inficiare anche mental health isolamento sociale l'avete non so se ci fate caso ma lo vedete tante volte tante persone quando ridono si mettono la mano davanti alla bocca perché non vogliono farsi vedere perché non stanno bene con se stesse e pian pianino tenderanno a isolarsi e questo perché perché magari hanno una bocca non curata messa male con varie patologie e magari non hanno qui in Italia ci vogliono i soldini non hanno i soldini per andarsi a fare un'ortodonzia e di conseguenza subiranno questi problemi su loro stessi ovviamente il dolore il discomfort gli impatti sulla salute generale e lì si ritorna all'unione i fattori di rischio comune e gli impatti sulla salute generale l'indicazione funzionale ovviamente senza denti i mastichi meno poi sarai malnutrita e quant'altro i costi e i trattamenti le notti che non dormi per colpare il dolore ovviamente perderai ridotta produttività della forza lavoro perché ovviamente magari hai dolore ai denti non puoi andare a lavorare perché devi andare dal dentista e di conseguenza lì sarà una doppia spesa perché non guadagni perché non vai a lavorare ma ti costerà essere curato dal dentista un'altra evidenza grossa e grossa una crescita diversa nei bambini per colpa delle malattie del cavo orale ovviamente anche loro se hanno problemi dentali e quindi hanno dolori tenderanno ad assumere meno cibo e di conseguenza tenderanno a crescere meno rispetto a un bambino che non ha nessun tipo di problema del cavo orale questi sono alcuni fatti chiave tanto se volete ve li mando tranquillamente con tutte le slide della presentazione e qui si torna con una delle frasi di Sir Michael Marmot è quello diceva anche prima Mario perché trattare le persone e rispedirle indietro nelle condizioni che le hanno rese malate noi non ci pensiamo mai anch'io in tutti i miei anni di clinica facevo l'igiene ai miei pazienti gli dicevo fuma meno non fumare smetti di fumare o fuma meno mangia meno zuccheri e via però tra virgolette una volta finita la sessione all'interno delle quattro mura quando il paziente è al di fuori delle quattro mura uno non sta a pensare a dove vive che lavoro fa ha soldini per pagarsi cibo sano e quant'altro uno tratta via avanti il prossimo almeno dal punto di vista mio quando ero ancora in clinica la prossima bocca la prossima bocca la prossima bocca perché quando fai migliaia di pazienti ad un certo punto non vi dico diventa come come fa ma a Londra un pochino sì in alcuni studi però vai lavori non stai a guardare a 360 gradi il paziente guardi la patologia guardi la gengivite guardi la parodontite curi e vai via invece dovremmo pensare a tutto ciò che circonda il paziente questo sempre e comunque in qualsiasi ambito della medicina lavorerete perché comunque fare una devitalizzazione a un paziente e il paziente ritorna fuori a faccio un esempio a bere tanto alcol si sbronza e poi quel dente che ti hai curato che gli hai devitalizzato magari un frontale lui da sbronzo cascherà per terra batterà gli incisivi si spaccherà un dente e avrà perso tutti questi ordini e quelle cure ci dovrebbe essere col tempo queste sono tutte le referenze se volete di quello trattato io e per i dentisti e quant'altro questo a novembre è stato rilasciato finalmente il Global Oral Health Status Report finalmente perché non era mai stato rilasciato e questo è il country profile dell'Italia noi siamo un paese ricco per intendersi in un paese ricco come il nostro si ritorna lì 29,6% degli adulti cioè delle persone con denti permanenti ovvero da 5 anni in poi ha carie dei denti permanenti attive e si ritorna lì sono 19 milioni di persone malattie parodontali ce l'ho scritto lì ma sono tanti milioni una delle cose fa più per esempio quanto si spende in Italia per l'odontologia prima? 19 miliardi di euro 19 miliardi di euro che se non sbaglio gli Stati Uniti adesso per aiutare l'Ucraina gli hanno mandato 10 miliardi di dollari di armi in Italia in un anno per l'odontologia si spende si spende 19 miliardi anche per lo Stato Italiano una bella finanziaria se sapete un po' quanto viene perso più che altro per colpa delle malattie orali? ho finito vai tranquillo quanto viene perso per il colpa che non vai al lavoro non vai a scuola o quant'altro? 9 miliardi di euro non so soldini oh no scusa no no tanto questa era l'ultima e poi comunque io le passo tu vai avanti comunque ho fatto un discorso sveloce ci si potrebbe stare ore e ore ore entere io tanto è vero su queste cose mi sono fatto un master di due anni in UCL sono a Londra e dopodiché ho sfruttato covid per farmi il master in Global Health con Mario e adesso mi sto facendo un altro master in statistica in metodo epidemiologico ma perché sono tutte cose che possono servire quando lavori in questi ambiti però si torna lì io sono partito da igienista dentale ho avuto queste fortune perché UK è un posto e mi ha dato le opportunità di studiare e andare avanti qui in Italia probabilmente se restavo in Italia sarei rimasto igienista dentale tutta la vita oppure tornavo a fare i barman come facevo da ragazzino una delle due essenzialmente